Buon pomeriggio a tutti eh iniziamo questo pomeriggio eh per questo primo appuntamento eh del workshop eh ci fa molto piacere che siate così numerosi e quindi prima di iniziare lascerei la parola per i saluti di benvenuto all'assessore al turismo del comune di San Benedetto Cinzia Campanelli Si sente? Si sente? Eh buon pomeriggio e benvenuti e come diceva Mauro ecco questa presenza così numerosa sinceramente ci non dico che ci commuove ma siamo veramente eh contenti e gratificati gratificati soprattutto ecco per eh per il lavoro che in questo ultimo anno abbiamo portato avanti insieme al direttore dell'ufficio turismo di San Benedetto al ehm al dottor ehm dottor Mauro Alfonsi al dottor Trevisani al professor Guido Capanna Pisce e dell'Università di Urbino al professor Temperini che tra poco ci raggiungerà e e quindi ecco diciamo che la vostra presenza non è solo un dato un dato perché magari domani potremo scrivere un bell'articolo dicendo che c'erano molte persone ma è proprio fondamentale perché ehm queste tre giornate che andremo a vivere eh saremo introdotti in un percorso che che dovremmo fare insieme un percorso nuovo un percorso in cui eh vorremmo desideriamo profondamente eh compiere ehm insieme per diciamo vivere questo passaggio ehm questo passaggio da turismo diciamo non più moderno a mio avviso non più alla al passo con i tempi per cui ecco noi in questo ultimo anno abbiamo eh buttato giù insieme delle linee delle linee guida su un nuovo modo di di procedere in ambito turistico e la fondamentalmente poi oggi in questi tre pomeriggi ci verrà illustrato tutto il percorso che è come ripeto da fare insieme e fondamentalmente il il passaggio il passo nuovo che vorremmo fare è quello del diciamo del del concetto dal concetto di località turistica eh in cui di fatto noi ci troviamo a subire il turismo al concetto di destinazione turistica integrata in cui finalmente noi insieme potremmo eh trovarci a gestire tutto quello che riguarda il turismo pianificarlo e diciamo tagliarlo a misura del nostro della nostra città del nostro territorio e saluto anche saluto vedo qui alcuni eh referenti dei comuni di alcuni comuni limitrofi con cui già c'è un percorso di lavoro insieme perché ecco credo che parte pubblica e parte privata ehm insieme possano compiere eh questo passo decisivo e ormai non più rimandabile a mio avviso e e quindi ecco le figure professionali che abbiamo abbiamo voluto oggi e abbiamo in collegamento in collegamento Luca Luca D'Angelo che è il direttore della della PT Dolomiti Paganella e quindi è un esperto di della creazione in creazione di DMO questa famosa destination management organization è quello a cui noi eh vorremmo ambire insieme e quindi eh ecco ci aspetta un bel lavoro eh ci auspichiamo che negli altri oltre ad oggi ecco possiamo avere questa presenza così numerosa per altri tre pomeriggi perché è solo l'inizio di un percorso di lavoro da fare insieme in cui eh dobbiamo rimetterci tutti in gioco e quindi ecco buon lavoro grazie grazie all'assessore Campanelli eh intanto presento il tavolo qui a fianco a me c'è il professor Guido Capanna Piscè eh assegnista di ricerca e eh docente dell'università di Urbino Carlo Bo stiamo aspettando eh il professor Valerio Temperini eh dell'università Politecnica delle Marche io volevo solo aggiungere due parole avevo preparato delle slide ma ho deciso di non eh tediarvi con eh altri altre immagini e solo due parole noi come comune di San Benedetto insieme all'assessore abbiamo intrapreso un percorso soprattutto negli ultimi dodici mesi orientato sui concetti che poi vedremo meglio esplicati più tardi della sostenibilità dell'accessibilità e dell'innovazione solo che questo percorso riesce su eh esclusivamente dal momento in cui ad intraprenderlo siamo tutti insieme perché il pubblico l'ente pubblico non può guidare le politiche turistiche e il privato da solo mhm forse eh ha bisogno anche di un coordinamento del pubblico il turismo io dico sempre che è per eccellenza una politica di sistema dove il pubblico e il privato non possono l'un l'altro fare mh essere indipendenti e farne a meno quindi ci inorgoglisce questa presenza e speriamo che e confidiamo che eh torniate anche nei prossimi giorni perché diciamo oggi è la prima giornata è più di presentazione è più frontale nelle successive due giornate eh saranno saranno proprio dei laboratori abbiamo appositamente scelto di non fare un semplice convegno con il turismo perché riteniamo che sia ora di smettere di parlarci addosso e iniziare a fare dei fatti questi fatti eh presuppongono l'inizio di questo percorso insieme noi già con grazie alla collaborazione dell'università di Urbino e da quella più recente con l'università politecnica delle Marche abbiamo sviluppato dei progetti perché sul turismo e sui driver della sostenibilità dell'accessibilità e dell'innovazione c'è la possibilità di intercettare numerose risorse anche eh messe a disposizione dall'Europa comune di San Benedetto ha già partecipato eh e realizzato due progetti rivolte alle rivolti uno eh arcadriatica alla valorizzazione del patrimonio marittimo eh in chiave turistica un altro resetting rivolto alle imprese eh in chiave di eh digitalizzazione e sostenibilità abbiamo qui infatti invitato eh alcune imprese che sono state beneficiarie di eh delle risorse europee per intraprendere un percorso verso la certificazione eco label una certificazione ambientale che eh riconosciuta a livello europeo che in termini di sostenibilità diventa eh un marchio molto importante anche a livello di eh marketing turistico siamo come comune di San Benedetto dentro ICC eh un'iniziativa della eh comunità della Commissione Europea eh Intelligent City Challenge e ICC eh dentro ICC eh eh realizzeremo due local green deal di cui uno dei due è il piano strategico del turismo sostenibile per raggiungere insieme ad altre cento città in Europa una parte di European Green Deal che l'Europa punta a realizzare entro duemilatrenta mi pare ecco detto ciò queste sono eh tutte le forze che stiamo mettendo in mettendo in campo e però abbiamo bisogno di voi abbiamo bisogno delle del feedback e del contributo dei privati degli operatori che ci diano che siano da stimolo e che lavorino con noi dando il loro apporto perché questo percorso funziona e funzionerà laddove altri tentativi magari qualche volta eh non hanno funzionato funzionerà se sarà attrazione avrà una attrazione privata perché gli operatori sono una componente fondamentale detto ciò eh lascio la parola lascio la parola al al Luca D'Angelo che io ho avuto il piacere di incontrare ad ad un convegno a Destination Lab a Riva del Garda dove c'erano i maggiori esperti di turismo in Italia e Luca D'Angelo mi ha colpito per per la sua competenza per per la sua visione oltre che per i risultati che eh costantemente riesce ad ottenere nel suo lavoro e quindi abbiamo avuto il piacere di invitarlo per portare una delle reali best practice che in Italia eh sono riconosciute in questo ambito grazie bene grazie vado io? Perfetto allora buon pomeriggio a tutti e benvenuti ringrazio ringrazio per l'invito e anche prima di addentrarmi insomma nel quello che ho pensato di presentarvi oggi volevo fare anche i complimenti per questo questo lavoro che state iniziando perché ho l'opportunità di vedere al di di là di quello che faccio giornalmente ma spesso vengo anche chiamato per fare interventi in esterno e non sempre eh diciamo ci sono progetti così strutturati che cercano di costruire insieme alla comunità insieme alla comunità degli operatori il futuro di una destinazione poi vi farò vedere anche qualcosa che abbiamo fatto noi direttamente di solito si tende magari a stringere un po' a fare un convegno a fare un incontro ma poi manca quella parte più operativa quindi su questo eh volevo insomma credo che sia la strada giusta costruire insieme alla alle persone che sono in sala alcune che magari arriveranno nei prossimi workshop un un sentiero un sentiero comune allora intanto ehm provo a vedere se riesco a condividervi lo schermo abbiamo fatto coorganizzatori quindi spero di sì ok è cambiato zoom adesso non è non è più come una volta ma vediamo non se riesco a beccarlo sì funziona Luca ok vediamo il tuo browser ok ok adesso vado in modalità presentazione così vediamo se riesco a mettere la schermo intero no datemi un secondo che provo a fare un'altra modalità che forse è più semplice esatto vedete sì sì grazie ottimo perfetto ok allora abbiamo superato la fase la fase critica tecnologica allora ehm tanti dei temi oggi che toccheremo sono anche quelli che vi interessano o almeno interessano il percorso che state facendo perché ho sentito parlare di ovviamente di lavoro di sistema di lavoro legato alla alla DMO quindi destination management organization o che possiamo chiamarlo in vari modi diciamo la il tema della sostenibilità il tema dell'accessibilità il tema dell'innovazione ovviamente io vi racconterò quello che è frutto della mia della mia esperienza che faccio ormai da da tanti anni nel campo del destination management applicato al territorio questo caso dove ancora il l'onore insomma il piacere di di lavorare sono qui in trentino da da circa vent'anni ormai e dieci anni che lavoro presso il territorio della dell'azienda per il turismo Dolomiti Dolomiti Paganella solo qualche parola velocemente su di me io sono di origine abruzzese quindi di pescara sono molto più vicino rispetto al trentino a voi in questo caso sono studiato economia del turismo a rimini e poi ho viaggiato un po per il mondo sono trasferito in trentino dove ho intrapreso un percorso in destination management con un master e poi sono rimasto sono rimasto qui e la mia famiglia oggi la mia vita è qui come vedete se non si intuisse sono un grande appassionato di sport outdoor poi vi racconterò anche un po il percorso che abbiamo fatto come territorio sul tema più legato alla mountain bike non tanto perché si debba fare la stessa cosa ma mi interessa farvi capire qual è il processo che ci che ci sta dietro quindi il mio lavoro principalmente oggi è quello di destination management destination manager presso l'azienda per il turismo Dolomiti Paganella ma da circa un annetto insieme a un collega e amico abbiamo anche fondato una società che si chiama top the outdoor project che si occupa diciamo di pianificare il territorio soprattutto dal punto di vista degli sport outdoor quindi all'area aperta è un percorso che abbiamo iniziato da poco ovviamente io mi devo un po di video perché il mio lavoro principale poter immaginare non è quello della consulenza quindi lo faccio un po nei ritagli ma abbiamo ovviamente un team che se ne che se ne occupa allora mi è stato chiesto dal professor Guido Capanapisce che ringrazio molto anche per l'invito di farvi anche una panoramica di come funziona il sistema di governance del del Trentino secondo me state immaginando ovviamente la nascita e la creazione di una di una DMO mi sembrava un quanto meno interessante in maniera veloce perché insomma il tema è abbastanza complesso anche sarebbe anche lungo però darvi qualche diciamo piccola indicazione qualche strumento per inquadrare come funziona il sistema perché è un sistema che è regolato dall'ente pubblico in questo caso sapete che il Trentino è una provincia autonoma quindi il nostro sistema di governance turistico è diverso da quello dell'Alto Adige che è un'altra provincia autonoma che ha quindi un sistema diverso e anche una legge di politica turistica diversa. Allora l'ultima riforma in termini di governance appartiene al del 2020 l'ultima diciamo di una delle tante delle leggi di promozione della 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 gestione del turismo del Trentino in Trentino che rappresenta come sapete sicuramente uno dei motori di sviluppo principale di questo di questo territorio che è fatto solo di 400 mila abitanti di cui 110 mila abitano a Trento quindi il restante perdonami qualche problema ad ascoltare bene la tua voce non so se è colpa del tuo microfono oppure magari senza microfono per la verità adesso provo a avvicinare quello del computer forse sì 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 di sotto funziona mi sentite meglio così no ok bene c'è un rimbombo non so se magari è causato sono una stanza normale dove di sotto faccio anche ok allora proviamo allora guarda prova un pochettino più lentamente magari così riusciamo a comprendere allora provo andare un pochino più lento no 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 non c'è problema io fatemi fatemi sapere che vi vedo piccolini l'aula e guardo il mio schermo un pochino più grande allora mi raccontavo che questa è l'ultima l'ultima legge di politica turistica del 2020 che ha ristabilito diciamo i soggetti principali che lavorano nel campo della della gestione della promozione del turismo in Trentino diciamo partendo dal centro troviamo la provincia di Trento quindi l'assessorata al turismo che ha un ruolo di indirizzo un ruolo di guida un ruolo di politica turistica cioè il soggetto che fa le leggi che quindi individua il framework individua la cornice nel quale poi si muovono alcuni alcuni soggetti individua la cornice e individua anche poi vedremo i meccanismi di finanziamento i soggetti principali che lavorano insieme alla provincia autonoma di Trento sono la Trentino marketing che è la società di marketing territoriale del Trentino quindi quella che gestisce il marchio marchio ombrello del Trentino si occupa principalmente di branding promozione e grandi eventi fa anche altro diciamo ma queste sono le specifiche principali poi mi sposto nella parte verde quindi in basso che è quella che riguarda strettamente il mio il mio lavoro che è legato appunto alle aziende per il turismo si chiamano così sono dei soggetti che esistevano ovviamente prima anche della riforma del del 2020 sono soggetti di natura privatistica quindi sono tutti i soggetti privati in forme giuridiche diverse nel senso che spaziamo da apt che sono cooperative apt che sono spa apt che sono che sono società consortili diciamo che la società consortile è quella che ha la fattispecie maggiore anche noi siamo una società consortile in questo caso ce ne sono sono dodici le aziende per il turismo in Trentino e diciamo che almeno una buona metà sono società consortili poi ci sono anche appunto delle società per azioni e delle delle cooperative le aziende per il turismo hanno il compito del presidio del territorio quindi se volete possiamo veramente individuarle come una dmo territoriale quindi un soggetto che sta e presidia il territorio poi con gli esempi vi verrà un pochino più chiaro capire cosa cosa fanno la legge individua per la trentino marketing e per noi diciamo i temi guida cioè cosa tendenzialmente siamo chiamati a fare con i fondi pubblici e di fatto le apt sono poi i responsabili della qualità dell'esperienza turistica dell'ospitalità e della fidelizzazione del turista cioè mentre la trentino marketing lavora sui mercati lavora quindi anche un tema molto forte di attrazione e di comunicazione le apt lavorano principalmente sul tema del management o come diciamo spesso creazione di esperienze o anche di sviluppo prodotto prodotto quindi non è che noi non facciamo comunicazione per la verità ne facciamo poca rispetto a una volta ma la facciamo se la facciamo la facciamo in maniera diversa sicuramente non facciamo una comunicazione di marca questa se ne occupa il trentino perché anche altri altri budget poi ci sono due soggetti sui quali non mi addentrerei tanto oggi altrimenti poi magari rischiamo di perdere il filo che sono la tsm che è una scuola di management del turismo dove tra l'altro io ho studiato e poi c'è queste nuove agenzie territoriali d'area si chiamano ATA che di fatto ve lo semplifico sono delle aggregazioni di apt cioè ce ne sono quattro che vanno ad aggregare i territori e sono state create per lavorare sui prodotti turistici che non riguardano un singolo ambito turistico ma ne possono riguardare più di uno diciamo sono soggetti gli ultimi soggetti nati nella legge prima del 2020 non c'era questo livello intermedio e sono incubati direttamente dentro trentino marketing allora come funziona anche il sistema di finanziamento sistema di finanziamento è diciamo si basa per quanto riguarda il finanziamento da trentino marketing con fondi che arrivano direttamente dalla provincia autonoma di trento cioè sono fondi del bilancio della della provincia e diciamo abbiamo la trentino marketing a un budget annuale di circa tra i 40 e 45 milioni di euro quindi sono cifre importanti circa 70 dipendenti che lavorano all'interno di questa di questa azienda poi ci sono le le apt che invece vengono finanziate con l'imposta di soggiorno nel caso del trentino l'imposta di soggiorno è di impostazione della ripetizione provinciale quindi com'è che funziona il flusso l'ospite versa l'imposta di soggiorno all'albergatore l'albergatore la poi attraverso trentino discussioni con la società di discussioni pubblica la quindi va nelle casse provinciali e la provincia poi le riattribuisce e alle apt secondo dei criteri che sono legati a quanto poi ogni singolo territorio ha generato in termini di imposta li restituisce non il cento per cento ma di fatto le restituisce l'ottantacinque per cento perché il cinque per cento va in onere di gestione della trentino discussioni e il dieci per cento va fisso per ogni apt nelle ata quindi se noi generassi un per esempio un'imposta da un milione di euro vuol dire che il cento mila euro vanno nella nella quota delle ata che la apt dolomiti paganella la pt di campiglio la pt della val di sole cede alla agenzia territoriale d'area e il per cento sono oneri di gestione prima di fare un passo avanti la cosa importante della della legge poi vi assicuro che la parte dopo è magari un po più divertente di questa sulla governance però è importante capire anche qual è l'architettura dentro quale lavoriamo che ci permette di fare i lavori che vi svelo che vi svelo a breve in questa in questa architettura nuova architettura la legge ci richiede che lo vedremo tra poco che i bilanci delle apt abbiano una nei ricavi della produzione quindi ricavi abbia una maggioranza di ricavi di natura privatistica quindi vuol dire che per ogni euro generato da fondi pubblici e quindi parliamo dell'imposto di soggiorno noi dobbiamo avere un euro virgola zero uno di ricavi privati questa è noi la chiamiamo 49 51 per semplificarla è una specifica che è entrata appunto una legge 2020 che è servita anche a diciamo blindare il mondo delle il mondo delle apt perché sono di fatto dei soggetti di natura giuridica privata che però ricevono dei fondi pubblici quindi noi abbiamo non dobbiamo diciamo non siamo soggetti alla non dobbiamo fare gare d'appalto ovviamente abbiamo la 2 3 1 abbiamo tutti i processi di trasparenza li potete vedere sul sul nostro sito però non siamo un soggetto pubblico non siamo preparati a un soggetto pubblico quindi questo è più o meno lo schema poi magari tenetevi delle domande le prendo le prendo alla fine perché mi interessa darvi anche lo schema generale quindi se avete poi delle curiosità o degli approfondimenti sul tema della governance ci torniamo a sicuramente sicuramente dopo volevo passare dal generale adesso un pochino più al al particolare mettiamolo così come vi raccontavo le apt sono 12 in trentino la apt dolomiti paganella l'azienda per il turismo dolomiti paganella è una di queste 12 che insiste su questo territorio che abbiamo un po cerchiato in questa parte vedete la città di trento siamo molto vicini alla città di trento vedete qui quindi c'è una zona che riguarda tra l'altro nuova tra virgolette per noi perché gestiamo questo territorio proprio dal 2020 prima era un territorio che era coperto da un soggetto che oggi non c'è più un soggetto giuridico che non c'è più che una zona ad alta vocazione vitivinicola qui siamo nella piana rotaliana si chiama così questa zona qui mezzo corona mezzo lombardo dove si produce la spumante rotali se qualcuno di voi ama i vini e poi c'è tutto quello che noi chiamiamo alto piano della paganella che quindi la parte più montana dove ci sono appunto gli abitati di fai della paganella andalo molveno le dolomiti di brenta che vedete qui dall'altro lato c'è madonna di campiglio quindi noi siamo esattamente dall'altro lato di di campiglio e altri e altre località qualche numero per darvi delle delle indicazioni delle coordinate anche qui la struttura della un po come avviene in tante località alpine ma in realtà anche in tante zone italiane è quella che tecnicamente si chiama di una destinazione community ovvero dove la maggior parte sono la totalità praticamente nel nostro caso delle imprese turistiche è di proprietà di persone del luogo quindi noi non abbiamo grandi gruppi investitori esteri imprenditori che arrivano dall'esterno c'è qualche azienda turistica che è di proprietà di persone del luogo che magari viene gestita da da soggetti terzi però tendenzialmente la proprietà compresi per esempio gli impianti di risalita o anche altre grandi infrastrutture è di proprietà o di imprenditori privati o degli enti pubblici che sono sul sul territorio 150 alberghi principalmente alberghi nella fascia che va dai 3 3s ai 4 poche strutture ex alberghiere diciamo che il traino forte sulle strutture alberghiere abbiamo ovviamente dei campeggi dei della recettività rurale ma la parte predominante è quella dell'alberghiero classico sull'anno registriamo circa 1 milione 600 mila presenze turistiche certificate quindi alberghiere extra alberghiere certificato se contiamo gli appartamenti ma li dobbiamo contare attraverso una stima perché non abbiamo ancora la possibilità di leggere questi dati in maniera precisa adesso abbiamo delle tecnologie che potrebbero permetterci di farlo ma sono ancora in fase di sperimentazione bell'anticipo sono legate alle celle telefoniche e riaggiungiamo circa 2 milioni di presenze turistiche l'anno quindi circa 4 500 mila presenze turistiche avvengono negli appartamenti e nelle seconde case quindi agli alloggi a uso turistico ci sono 12 comuni nel nostro nel nostro ambito di cui quelli più intensamente turistici sono quelli dell'alto piano della paganella tra cui molbeno che vedete nello sfondo di questa foto e andalo che in realtà è il resort più grande è una cosa interessante su quale poi torneremo anche dopo che fa parte un po delle peculiarità del nostro ambito turistico e che la maggior parte oggi delle presenze turistiche del nostro sui 12 mesi avviene nella stagione che va tra aprile maggio fino a novembre quindi più della metà quasi 68 e 60 per cento dipende dai periodi e il 40 per cento avviene sull'inverno questo non perché l'inverno non funzioni anzi l'inverno va a gonfie vele ma perché negli anni abbiamo cominciato a costruire proprio su queste stagionalità un'attenzione particolare soprattutto in termini di sviluppo del prodotto legato principalmente all'outdoor quindi agli sport all'aria aperta è una peculiarità un po appunto tale che poiché di solito nelle distrazioni alpine la maggior parte delle presenze avviene in inverno è il contrario diciamo 60 65 per cento a volte anche il 70 per cento va nel periodo che va da dicembre fino a da fino a pasqua tendenzialmente poi dipende quando cade la pasqua e solo il 40 per cento diciamo avviene si avviene nella stagione che va dalla primavera all'autunno quindi questo è un dato su quale noi abbiamo stiamo lavorando da molti anni ancora ovviamente è una non finito è un percorso che probabilmente non finirà mai però è un è uno dei punti forze di punti di forza della nostra anche cardini diciamo della nostra strategia turistica un po per farvi capire torno quindi ai temi un po di management perché ovviamente voi sarete chiamati siete chiamati anche di immaginare quale può essere diciamo la struttura quantomeno come potrebbe funzionare la una una dmo di mio locale vi faccio vedere come funziona la nostra quindi vi porto un po il dietro le quinte ovviamente se arrivate sul nostro portale oggi queste cose non le vedete perché sono cose che non interessano tra virgolette agli ospiti però la macchina diciamo ha un funzionamento ed è questo allora noi come dicevo prima siamo una società consortile a responsabilità limitata ed abbiamo una struttura molto snella tra virgolette perché i nostri soci sono scusate i sette soci di natura privata che vedete sulla sinistra che sono dei consorsi turistici delle singole località quindi ogni località ha un suo consorzio andalo molveno fai lo vedete le vedete lì e non ve li listo ma solo per per capirci e poi abbiamo i cinque comuni dell'altopiano della paganella che sono i cinque comuni fondatori diciamo della dell'azienda per il turismo pre riforma perché se vi ricordate prima vi dicevo che con la riforma abbiamo guadagnato anche il territorio della piana rotaliana dove ci sono ben sette comuni ma diciamo nella struttura di governance questi sette comuni non sono entrati ma è entrato il il soggetto privato questo perché sempre tornando alle indicazioni della legge la legge ci chiede che l'azienda per il turismo abbia sempre di più la legge pubblica ci chiede sempre di più che le pt abbiano un privato quindi anche la loro governance rifletta tendenzialmente la maggioranza degli imprenditori privati i consorsi sono di fatto delle aggregazioni di soggetti privati come funziona a livello di ruoli questo questo meccanismo la nostra azienda per il turismo ma non solo perché ovviamente qui ci siamo noi ma ci sono una serie di soggetti che mi precedeva prima penso l'assessore parlava anche della necessità del sistema no cioè le destinazioni sono dei sistemi sono dei sistemi complessi e sono fatti da tante persone singole e aggregati questo più o meno questa piramide strana che vedete qui è il come dire la fotografia di come un po funzionano i meccanismi che regolano il cosiddetto chi fa cosa all'interno della destinazione della miti paganella partiamo dal basso vi aiuto a leggerlo nel basso trovate gli imprenditori quindi gli operatori turistici e economici del territorio possono essere tutti gli imprenditori ovviamente gli imprenditori del ricettivo gli impiantisti le guide i noleggi i ristoranti i bar i rifugi immaginate insomma poi a seconda le destinazioni si può più o meno riempire di nuove categorie ma sono tendenzialmente quelli che noi chiamiamo gli stakeholder quindi gli imprenditori turistici il loro compito qual è molto molto semplice gli imprenditori sono a contatto con gli ospiti sono gli imprenditori appunto nel quale poi avviene tendenzialmente scusate se la banalizzo così ma per capirci una transazione economica di sicuro la transazione economica non avviene negli uffici informazioni che gestiamo noi o da altre parti avviene quindi il mercato incontro da domanda e offerta avviene appunto tra gli ospiti e gli imprenditori turistici quindi il loro ruolo è quello di creare valore e di gestire l'esperienza dell'ospite cercando sempre di aumentare la qualità ogni singolo imprenditore di ogni singola località è associato a sua volta a un consorzio turistico di località quindi facciamo un esempio siamo ad andalo l'albergatore di andalo è associato al suo consorzio turistico appunto si chiama andalo vacanze l'associazione adesso poi vi dico anche quanto quanto è la quota perché immagino che questo vi interesse con il versamento della della quota al al suo consorzio l'imprenditore finanzia alcune cose principalmente cosa che va a finanziare va a finanziare l'organizzazione degli eventi dell'animazione di località alcune esperienze turistiche particolari e poi ci siamo diciamo c'è un'altra parte che è legata più servizi che noi chiamiamo premium che sono legati principalmente alla commercializzazione in questo caso li lascerei un attimo in secondo piano principalmente sono eventi animazione e in alcuni casi anche servizi importanti come per esempio i servizi di mobilità noi abbiamo un servizio di mobilità sia estivo che invernale sono simili nella gestione nelle erogazioni leggermente diversi che vengono finanziati anche in gran parte dagli imprenditori singoli attraverso il lavoro dei consorsi inoltre il singolo imprenditore finanzia il suo consorzio per la creazione di una card quindi una card che viene poi data all'ospite che soggiorna le strutture ricettive e questa card permette all'ospite di accedere a una serie di servizi noi non abbiamo gratuità nel senso che tutto quello che c'è sulla card ha poi l'ospite che ha la card può accedere a questi servizi in maniera scontata ma non gratuita l'unica gratuità che esiste che è una cosa che ha scelto la provincia di fare ma non noi è la mobilità quindi per chi è possessore di una card locale c'è tutte fondamentalmente le card delle 12 apt del trentino ha poi la possibilità di accedere ai mezzi pubblici estivi in maniera in maniera gratuita quindi al sistema di mobilità principale sulla mobilità si dovrebbe aprire un discorso a parte molto complesso ma poi se vi interessa magari centriamo nella fase delle domande quanto per prima dirvi quanto paga finisco il giro arrivo in cima ovvero a noi in questo caso la pt noi non abbiamo un rapporto diretto dal punto di vista finanziario con l'imprenditore ma noi riceviamo tutto il flusso di raccolta della da parte dei consorsi quindi che raccolgono il monte degli investimenti e lo portano sul cappello più alto questo questo pezzo di piramide un po più grande che fa anche da ombrello e lo portano all'azienda per il turismo e noi ci occupiamo fondamentalmente di strategia di sviluppo prodotto di innovazione di progetti di sistema qui non ci sto tanto perché poi vi faccio vedere nel concreto cosa cosa facciamo quello che è importante da dirvi è che poi noi c'è un meccanismo finanziario che permette di fare questo restituiamo immaginatevi questo flusso circolare quindi che arriva dall'imprenditore consorzio a pt e poi a pt restituisce gran parte di questi fondi non tutti per la verità ai singoli consorsi attraverso dei contratti di servizio in cui noi affidiamo la realizzazione di alcune attività specifiche questo ci permette in quel concetto del 49 51 di avere una maggioranza di fondi di natura privata rispetto a quelli di natura pubblica due passaggi importanti qui che sono molto specifici di del nostro territorio uno che il 90 per cento degli operatori è associato a questo sistema quindi è associato almeno a un suo consorzio di località perché ve lo dico sinceramente non conviene stare fuori nel senso che il sistema funziona talmente in maniera oliato ormai e anche i servizi che vengono restituiti al singolo imprenditore che di fatto con la sua quota non sta finanziando la sua impresa turistica ma sta finanziando la destinazione turistica perché finanzia servizi di destinazione quindi è quello che succede fuori la porta che sia un albergo di o di un bar non è quello che succede dentro quello loro lo fanno e lo fanno con loro con loro budget quindi questo è un primo passaggio altissima adesione e l'altro è anche quanto pagano questi soggetti e il prendo l'esempio perché forse più semplice del imprenditore alberghiero quindi un ci sono delle meccanismi di quote un albergo di media di media ad andalo un poi a molbeno fai sono abbastanza simili diciamo che viaggiamo da una fascia che va tra i 90 e i 110 euro a posto letto l'anno fatevi il calcolo immagino che ci siano degli albergatori degli imprenditori alberghieri in sala questo solo per finanziare diciamo quello che vedete in questa in questa slide se poi ci sono dei progetti extra e ve ne faccio un esempio uno se uno vuole diventare bike hotel ve lo dico perché poi ve lo faccio vedere questo non riguarda questo pezzo qui ma un investimento extra quindi l'imprenditore poi versa in questo caso che sarà a pt un'altra quota che gli permette di avere diciamo chiamiamola un'extra visibilità e un'extra specializzazione ma per il livello base quindi finanziamento della carta mobilità finanziamento degli eventi siamo tra i 90 e 110 euro a posto letto ci sono alberghi quelli più grandi che tra finanziamento base tra finanziamento extra all'anno investono nel sistema tra i 5 e i 6 mila euro ok quindi questo è questo parliamo ve lo dico perché spesso me lo chiedono e quindi anticipo sicuramente una domanda poi dopo se ci sono curiosità di nuovo ci stiamo sopra le molte cose che noi riusciamo a fare sono frutto ovviamente dei fondi che arrivano sicuramente dalla dalla provincia ma sono frutto anche di una forte e decisa come dire attenzione e partecipazione degli imprenditori privati all'interno del sistema turistico questo è veramente fondamentale dico spesso che noi il 90 per cento delle cose che abbiamo potuto fare senza questo sistema che è un sistema che ovviamente è molto complicato io ve l'ho cercato di spiegare velocemente anche se ho dovuto semplificare per forza di cose ma vi posso assicurare se faccio una risata quando io sono arrivato dieci anni fa a fare il direttore io ci ho messo circa un anno a capire come funzionava questo sistema quindi spero di essere riuscito quantomeno a farvi capire i flussi perché anche con con le varie grafiche le varie slide nel tempo abbiamo cercato anche un po di semplificarlo quindi è un sistema molto complesso che necessita di avere il chi fa cosa sempre molto chiaro sempre ribadirlo sempre di più vi parlavo prima della del budget quindi qui torno siamo in cima a questo sistema quindi c'è l'azienda per il turismo come vedete questo è uno screenshot del nostro ultimo bilancio e vedete che la la quota di finanziamento privato quindi quello che noi generiamo che il territorio genera e porta nell'azienda per il turismo è del 53 per cento mentre il finanziamento pubblico è del 47 per cento tenete presente così poi vi fate le dovute proporzioni che la quota di finanziamento pubblico quindi quota di imposta di soggiorno nel nostro caso vale circa un milione e novecento mila euro quindi questa è la quota che noi che generiamo attraverso l'imposta di soggiorno che poi ci viene tornata dal finanziamento della provincia la provincia di fatto il finanziamento pubblico è questo flusso finanziario che arriva dall'imposta di soggiorno se un anno abbiamo performato peggio come destinazione magari abbiamo meno ospiti vuol dire probabilmente riceveremo anche meno fondi mi posso anticipare che abbiamo iniziato una discussione con la provincia perché riteniamo che sia corretto finanziare le apt per la loro performance ma non è solo non deve essere solo più una performance di carattere quantitativo ma dobbiamo anche valutare anche cosa vuol dire la performance di carattere qualitativo mi spiego meglio per un esempio con un esempio nella proposta che andremo a fare a negoziare a breve poi non so ovviamente se se ci arriveremo a trovare una una quadra nella nostra idea vale molto di più una presenza di ottobre che una presenza di agosto perché lo sforzo che il territorio deve fare per attrarre una persona a ottobre adesso mezz'ora fa nevicava a 1700 metri quindi posso solo far immaginare quante quanto è difficile è un'altra cosa che attrarre una persona di agosto che ovviamente è un periodo in cui i flussi turistici sono molto più elevati questo solo per darvi un'idea anche dei ragionamenti che sono in che sono in prospettiva allora sulla parte di governance io avrei chiuso forse mi sono dimenticato di dirvi quanto vale l'imposta di soggio cioè quanti sono le aliquide insomma viaggiamo da sono stabilite dalla provincia viaggiamo da un massimo di 2 euro e 50 al giorno negli alberghi diciamo dai 5 fino ai 4 stelle poi 2 euro e 1 euro e 50 queste sono le aliquide quindi dai 3 stelle 2 stelle poi ai bed and breakfast e ai campeggi abbiamo delle esenzioni per i ragazzi sotto i 16 anni poi c'è una parte legata alle anziane una parte legata ai disabili nel nostro caso per esempio che è un territorio a fortissimo traino family perché il prodotto family è uno dei nostri principali dove abbiamo tantissimi bambini rispetto a altre pt che fanno per esempio meno presenze ma hanno meno bambini noi riusciamo a generare un po' meno di imposta di soggiorno però questo fa parte della nostra struttura cioè dei nostri target quindi insomma c'è poco diciamo da poter agire da questo punto di vista ho anticipato quindi velocemente quindi struttura governance come funziona il sistema adesso ci spostiamo un attimino a capire cosa facciamo un pochino più nel dettaglio Luca, scusa, sono Mauro ti interrompo un attimo visto che poi diciamo hai saurito la prima parte del tuo intervento sul concetto di governance se magari ritieni magari sentiamo sì volentieri se ci sono va bene perfetto allora c'è qualcuno che ha magari sentito l'intervento e ha qualcosa da chiedere qualche curiosità qualche suggestione magari nessuno che rompe il ghiaccio no devi ci sono due interruttori ecco lei buonasera se si può alzare in piedi così magari va bene buonasera sono Carbonidiana nel settore alberghiero una domanda nella governance perché magari forse l'ho persa io nel passaggio parliamo di interessante questa piramide nella governance c'è un consorzio turistico che abbiamo detto che è fatto di imprenditori privati e poi in cima c'è l'APT ora nella gestione dell'APT cioè gli organi di gestione e di comando nel senso essendo il consorzio è un consorzio che avrà un consiglio di amministrazione eccetera eccetera come società privata l'APT in che maniera viene gestita? cioè ci sono dentro le figure apicali del consorzio dell'ente pubblico cioè quali sono i ruoli e in che maniera poi chi ha e chi prende le decisioni e in che forma societaria barra giuridica viene fatto? la seconda domanda è stato fatto un esempio di quella che è la quota che viene versata dall'imprenditore ma qui si sta alberghiero a parte i numeri sono completamente diversi ma quello è un altro argomento che poi andremo forse più in pratica per quello che riguarda noi i numeri di cui stiamo parlando che ci riguardano sono molto diversi però l'operatore turistico è composto sia dall'albergatore dall'esempio che è stato fatto di quanto l'albergatore versa ma da tante altre figure imprenditoriali ecco in quel caso lì in che maniera vengono poi calcolate l'intervento di ciascuno degli imprenditori e dei privati che vengono coinvolti immagino che ci sia una modalità di calcolo già prestabilita grazie sì allora sulla prima domanda sul tema diciamo della gestione scusa Luca scusa se togli la condivisione schermo vediamo te hai ragione vedete il problema è che io adesso ho messo grande voi prima ero piccolini e non so come vabbè se qualche modo farò è vero grande la sala prima era minimizzata e devo capire come come tornare ma ci pensiamo tra poco allora tema diciamo governance della PT la telecamera Luca la telecamera scusa eccola qua adesso mi vorrei perfetto tema governance della PT quindi per semplificare il consiglio di amministrazione ovviamente riflette innanzitutto la struttura societaria con i sette consorsi privati quindi la maggioranza dei soci è privata perché la maggioranza delle quote appartiene ai soci privati e poi ci sono le cinque amministrazioni pubbliche dentro il consiglio di amministrazione di APT ci sono dei rappresentanti ovviamente come potete immaginare dei consorsi e ci sono in maniera proporzionale alla grandezza del consorzio è tendenzialmente legata fondamentalmente ai flussi turistici quindi a quante presenze quindi Andalo per esempio ha più consiglieri di Fai della Paganella che è più piccolino ed è un poi abbiamo un presidente ovviamente viene eletto dal CDA che dura in carica dura in carica tre anni il CDA ha un ruolo ovviamente molto importante di strategia di indirizzo ovviamente poi di prendere decisioni di peso ovviamente una cosa che non vi ho detto nella struttura dell'azienda per il turismo ovviamente c'è uno staff perché io non lavoro da solo non potrei mai fare tutte le cose che vi vorrò vedere a breve noi siamo in 15 quindi siamo 15 persone comprese me fisse durante l'anno e poi ci sono un X di stagionali che che lavorano negli uffici informazioni abbiamo quattro uffici informazione disposti lungo lungo il territorio come struttura diciamo siamo anche abbastanza agili quindi ci possono non sono poche mi rendo conto ma altre PT ok non so se mi sentite più no eccoci Luca abbiamo avuto un problema tecnico scusaci stiamo tornati mi dite solo a fin credo di aver parlato un po' da solo però ditemi solo dove fin dove mi avete sentito è riarrivato alla parte su l'organizzazione della governance era posso era era fermo al discorso della componente dell'ATP che era sicuramente fatta dai membri del consorzio poi c'era da quel momento in poi non l'abbiamo più sentita ok quindi si vi dicevo che il CDA è espressione della tipologia dell'azienda sette consorsi privati cinque comuni una cosa che non vi ho detto è che la legge anche la legge provinciale del del turismo impone ai CDA dell'APT che ci sia una maggioranza anche di soggetti privati dentro cioè che il CDA sia espressione degli imprenditori turistici privati ovviamente nel nostro caso è comunque così perché i soci di privati sono in maggioranza ma abbiamo di fatto un rappresentante per ogni per ogni comune se vogliamo proprio semplificare per i comuni più grandi vi stavo raccontando che ovviamente il CDA ha un ruolo di indirizzo strategico c'è un presidente ma poi c'è uno staff c'è un organico in APT siamo in 15 fissi annuali più ci sono degli stagionali che lavorano negli uffici in formazione in alcuni momenti in estate in inverno quando ci sono quando ci sono i picchi e quindi ovviamente questa è un po' la struttura la struttura organizzativa per quanto riguarda la seconda domanda legata alla quota io vi ho parlato sicuramente della della quota dell'imprenditore alberghieri ma tutti gli imprenditori versano delle quote diciamo che l'imprenditore alberghiero è quello che forse contribuisce di più perché quello è anche un beneficio diretto attraverso l'utilizzo della card perché l'imprenditore alberghiero che offre la card all'ospite non è il noleggio il noleggio va incontro pagando una prende il noleggio per un esempio va incontro pagando una quota annuale che può variare a seconda dei consorsi tendenzialmente o sul fatturato o anche sulla grandezza per esempio sui ristoranti si va a posti a sedere in questo caso sui commercianti si va sul volume sul volume d'affare ci sono varie non c'è una tipologia ovviamente di quota univoca perché sono diverse le categorie però partecipano tutti tutte le categorie imprenditoriali comprese gli impianti che insomma hanno un ruolo sicuramente di traino bene grazie intanto qualche altra domanda oppure possiamo proseguire qualche altra curiosità qualche altro non so andiamo avanti intanto poi se vi vengono in mente segnatevele le riprendiamo ok grazie torno qua perfetto allora eravamo chiuso questo passaggio legato alla struttura quindi governance legge provinciale del turismo in Trentino apt domiti paganella come funziona una precisazione questo schema che avete visto che vi ho fatto vedere questa piramide non è uno schema che hanno tutte le altre pt questo ci tengo a dirlo perché spesso si pensa che la legge di politica turistica possa governare ogni singolo aspetto in realtà la legge di politica turistica dà la cornice come vi dicevo prima le apt sono tutte diverse ognuno ha interpretato quindi le dmo se volete ognuno ha interpretato il suo ruolo e di conseguenza anche la sua struttura di governance in maniera più adeguata e più efficiente per rispondere anche a come il territorio è perché il nostro territorio non è uguale a quello di Riva del Garda vi faccio un esempio o a quello della Val di Fassa ci sono delle similitudini ma non è non è la stessa cosa quindi ogni ogni territorio ha inteso poi la possibilità di organizzarsi in maniera diversa l'esempio banale ho citato la Val di Fassa che sicuramente conoscerete la Val di Fassa la PT della Val di Fassa è una società cooperativa che ha mille soci quindi quando io prima avevo fatto vedere il nostro schema societario da 12 capite benissimo che non è uguale averne mille pro e contro possono esserci in entrambi i modelli noi abbiamo intrapreso ovviamente il modello più snello perché era così che era giusto per noi la Val di Fassa ha una scelta diversa perché non ha il passaggio intermediato dai consorzi di località quindi diciamo che il singolo imprenditore si aggancia direttamente all'APT non ha un intermediato ve lo dico solo come integrazione appunto a quello che dicevo quello dicevo prima andiamo un attimino un po' nel dettaglio vi racconto quindi cosa cosa facciamo di fatto giornalmente noi ci occupiamo come vi dicevo prima in questa nuova forma di ruolo perché non è sempre stato così l'APT nel passato ha anche la nostra APT ha avuto dei momenti anche difficili in cui insomma c'era un ruolo che non era quello di adesso che è un ruolo di guida un ruolo di leadership riconosciuto dalla destinazione per alcuni anni ha avuto un ruolo un pochino più passivo per n motivi non c'era lo stesso inquadramento di struttura provinciale ma diciamo non era chiaro quel chi fa chi fa cosa che io vi ho raccontato c'era molto più overlapping molta più sovrapposizione quindi questo creava diciamo dei disguidi e non un efficace nel sistema dal diciamo dal 2015 più o meno come anno abbiamo intrapreso questo nuovo ruolo che vede la nostra pt focalizzata quindi principalmente nello sviluppo prodotto nello sviluppo delle esperienze che noi chiamiamo flagship quindi c'è quelle di distintive quelle che sono che ci fanno riconoscere poi verso l'esterno sui temi della sostenibilità di cui parlerò anche sui temi dell'accessibilità qui vedete questa slide riassunti in maniera molto sintetica quelli che sono i principali prodotti turistici che o gestiamo noi direttamente perché non è detto che li gestiamo noi direttamente per esempio lo sci il prodotto sci invernale non è gestito direttamente da noi ma è gestito dalle società impianti noi abbiamo più un ruolo di affiancamento per esempio il prodotto bike è seguito direttamente da noi nel senso che siamo noi capofila di questo sviluppo anche qua usiamo sempre una parola che si chiama geometrie variabili nel senso che non c'è un ruolo assoluto che è uguale per tutta questa tipologia di esperienze e di prodotti il ruolo cambia in base agli interlocutori che stanno dall'altra parte a livello di organizzazione del prodotto delle esperienze quante persone che tipo di ciclo di vita ha il prodotto quindi si fanno delle valutazioni e poi si negozia all'interno del CDRA e con i consorsi turistici e quindi con gli imprenditori di fatto in maniera aggregata quale può essere il ruolo dell'APT su questi singoli impegni vi faccio vedere quindi entriamo un pochino più nel dettaglio di cosa di cosa facciamo sul tema del prodotto bike noi nel 2015 appunto quando vi raccontavo questo cambio che c'è stato un po' nella strategia di APT e nella leadership dell'azienda per il turismo abbiamo di fatto creato insieme principalmente all'impianto di salita abbiamo disegnato un master plan di sviluppo di quella che oggi si chiama Dolomiti Paganella Bike quindi della nostra bike area che la vedete qui riassunta è una oggi una bike area che è una delle più importanti d'Europa sicuramente nelle Alpi abbiamo un prodotto ciclistico che è molto vocato ve lo farò vedere nell'immagine a breve alla discesa quindi noi abbiamo utilizzato un'infrastruttura esistente che era quella degli impianti di risalita che erano già presenti ovviamente in inverno e abbiamo valorizzato i sentieri che erano già preesistenti nel 2015 ma dal 2015 in poi abbiamo cominciato questo master plan di sviluppo coordinato e guidato da noi con le tre società impiantistiche e con i comuni e quindi oggi abbiamo la possibilità di avere tre zone fondamentalmente tre accessi abbiamo nove impianti aperti durante l'estate da aprile fino a novembre quindi la stagione di apertura degli impianti di risalita oggi è il nostro territorio è più lunga rispetto da aprile a novembre è più lunga rispetto a quella invernale che tendenzialmente va secondo delle condizioni va da dicembre fino a fine marzo ovviamente gli impianti non sono utilizzati solo dai bikers che acquistano un biglietto si portano in quota quindi poi scendono con la bici quindi parliamo di quello che tecnicamente di solito viene definito come downhill anche se noi non lo chiamiamo più così ma per darvi delle coordinate forse è un nome che conoscete quindi con un solo bike pass che è simile allo ski pass quindi è un po' con la stessa approccio dell'inverno noi siamo riusciti a costruire questa offerta che oggi è questa cosa qua questa è la mappa che oggi noi creiamo tutta questa parte di elaborazione grafica di gestione della cartellonistica anche della segnaletica della difficoltà sono tutte cose che curiamo noi quindi abbiamo come PT in mano lo sviluppo la gestione e anche il marketing di questo prodotto addirittura dall'anno scorso gestiamo anche tutta la fase di manutenzione dei tracciati ovviamente ricevendo dei fondi dagli impianti di risalita perché il biker si porta in quota utilizzando un biglietto che viene pagato agli impianti di risalita una parte di questo fatturato viene fornito ad APT per lavorare sulla manutenzione quindi abbiamo delle squadre che oggi sono composte da 12-13 persone fisse che ogni anno ogni stagione appunto da aprile fino a novembre lavorano per la manutenzione quindi per gestire e sistemare i tracciati esistenti o a volte anche per realizzarne di nuovi e lavoriamo diciamo anche utilizzando andando applicando i principi anche della sostenibilità in un mondo che è molto che è nuovo quindi diciamo dove non ci sono dei protocolli oggi chiari anche nella gestione della manutenzione noi abbiamo creato diciamo questo protocollo insieme ai nostri tecnici che tecnicamente si chiamano trail builder quindi sono le persone che si occupano dei trail e quindi cerchiamo di minimizzare il più possibile l'impatto del lavoro dei trail builder sul territorio utilizzando legname locale utilizzando il meno possibile anche attrezzatura a diesel utilizzando molto le batterie quindi non per esempio sfogliatori o altre attrezzature che vengono utilizzate che sono di solito meccaniche quindi utilizzano benzina quindi ci sono una serie di aspetti non è questo oggi l'obiettivo ma solo per farvi capire che cerchiamo di applicare i concetti della sostenibilità anche in un prodotto specifico come i biker come il bike qui vedete l'evoluzione dei passaggi cioè il numero di volte in cui i biker sono passati anno per anno hanno utilizzato i nostri impianti questi sono dati diciamo certificati perché ci arrivano ovviamente dalle società impianti e vedete questa curva di crescita dal 2018 poi ovviamente c'è stata la stabilizzazione con il covid ma anche durante il covid noi abbiamo avuto grande soddisfazione in estate da questo prodotto perché ci ha garantito la possibilità di avere comunque un flusso costante di persone di tenere aperti gli impianti quindi di far girare anche l'economia in un momento difficile e poi diciamo c'è questa c'è questa crescita che oggi insomma ci garantisce e garantisce le solità degli impianti l'opportunità di avere una stagionalità molto lunga da aprile appunto a novembre non siamo aperti sempre tutti i giorni aprile siamo aperti weekend adesso fino alla settimana scorsa eravamo aperti tutti i giorni alcune zone vanno avanti tutti i giorni alcune zone invece apriranno solo il weekend poi dipende ovviamente anche dal meteo perché come vi dicevo prima dalla quota a 1.800 da due giorni da ieri nevica quindi è difficile anche poter pensare di andare in bici quindi dobbiamo utilizzare i sentieri più bassi perché vi cito questa cosa della stagionalità perché uno dei nostri obiettivi ve lo citavo all'inizio è quello che noi oggi abbiamo chiamato season free cioè rompere le classiche schemi della stagionalità estate e inverno di solito ma andare verso qualcosa di molto più fluido e questo è diciamo rappresentato in parte perché non basta solo ma è uno dei primi obiettivi che abbiamo cercato di raggiungere nella cercare di ridurre il gap tra la chiusura e gli impianti di risalita in versione invernale quindi guardate a sinistra questi sono dati di quest'anno quindi il 3 aprile è stata chiusa la schiarea e il 20 aprile abbiamo aperto non tutti gli impianti ma una parte di impianti per la parte bike quindi questo ci garantisce anche la possibilità di spalmare i flussi durante la stagione ci sono ancora dei picchi stagionali ovviamente perché questi non dipendono solo da noi ma dipendono dalla domanda dal mercato però è anche il prodotto è anche l'offerta che può influire sui flussi ovviamente costruendo un'offerta specifica vi faccio vedere un breve video così intanto abbiamo un bicchiere d'acqua e così potete intuire se va non sentiamo l'audio Luca del video allora mentre Luca si ti infresca un po' la gola facciamo intervenire il professor Valerio Temperini dell'Università Politecnica delle Marche che ringraziamo sia per essere qui per collaborare con noi e per averci messo a disposizione la sede di San Benedetto della Politecnica grazie grazie buon pomeriggio a tutti scusate il ritardo ma vengo da un intervento proprio sul turismo delle aree interne tra l'altro a Sassoferrato quindi ho avuto un po' di problemi poi per strada perché tra strade chiuse il solito autostrada il problema all'attezza di pedaso insomma abbiamo un po' di difficoltà allora intanto vi do il benvenuto anche da parte del rettore del preside che ci hanno rendono disponibili questi spazi e sono molto contento e onorato di partecipare a collaborare su questo progetto perché ci crediamo tantissimo io mi occupo di marketing turistico e territoriale da circa 20 anni e nelle varie analisi che ho condotto sul nostro territorio tutta la regione anche in questo in particolare sto collaborando anche con il comune anche per l'analisi socio-economica per il nuovo piano regolatore e il turismo è sicuramente un settore su cui abbiamo posto un bel focus c'è bisogno di un progetto come questo perché noi vediamo che una delle difficoltà maggiori per poter essere più competitivi è proprio quella dell'integrazione quindi dobbiamo cercare di aggregarci rendersi conto che la competizione è fra territori la competizione all'interno del territorio da parte delle imprese va bene perché ci deve stare perché ci dobbiamo innovare dobbiamo avere degli stimoli sempre a far meglio però dobbiamo metterci in testa che completiamo con altri territori e per far questo dobbiamo stare insieme pubblico e privato si devono integrare collaborare per poter sviluppare delle offerte che siano più attrattive ma soprattutto per renderci anche più visibili e meglio visibili anche sul mercato non solo nazionale anche internazionale sapete benissimo già se andiamo a Milano non sanno molti non sanno dove sono collocate neanche le marche ci scambiano per Molise poi se diciamo le singole le singole città chi le colloca in Umbria chi le colloca in Abruzzo a seconda dell'accento quando ci sentono fuori insomma è difficile quindi dobbiamo cercare di agregarci ed essere quindi più forti qui si parla Dolomiti Dolomiti io i singoli comuni parte Andalo probabilmente non li ho mai sentiti gli altri quindi non li conosco però conosco Dolomiti so della riviera Romagnola magari un po' più vicina conosciamo quindi dobbiamo andare su questa su questa strada quindi cercare di avere una fare massa critica con un identificare un bel territorio qui le caratteristiche anche per poter far bene ci sono e quindi su questo siamo pienamente convinti grazie allora Luca se vuoi ricominciare adesso ovviamente il video è come al solito è emozionale serve appunto ad entrare nel mood e ovviamente poi riceverai qualche domanda sicuramente dalla platea perché ovviamente siamo al mare e quindi magari se visto che sei un uomo nato al mare magari poi alla fine qualche consiglio qualche suggerimento qualche elemento e poi magari anche in sintesi secondo te che cos'è una DMO oggi appunto e cosa sarà magari tra qualche lo so conosco più o meno la scaletta però ecco spoiler perché così magari visto che non concederemo pause alla platea allora capito andiamo un po' avanti grazie perfetto il video mi serviva solo per farvi un po' capire cosa si è creato al di là che non è ovviamente questo non è un prodotto replicabile ovunque questo lo sappiamo però al di là che questo è un prodotto molto specifico ma è un prodotto che abbiamo disegnato quasi da zero e ci siamo riusciti mettendo insieme più soggetti quindi l'unico modo per riuscire a lavorare su prodotti complessi che ci sia ovviamente una strategia che sia tenuta nel lungo nel medio periodo almeno che sia coerente ovviamente con gli obiettivi che il territorio si dà e che sia scusate se questo sarà un reframe che dico più volte oggi sia molto chiaro il chi fa cosa perché altrimenti diventa poi complesso poter gestire queste cose che sono di per sé già molto complicate che prevedono un impatto sul territorio importante che prevedono poi la nascita di infrastrutture io vi do un esempio sul nostro progetto BYE quando siamo nati avevamo un noleggio operativo quindi c'era un soggetto un imprenditore oggi ne abbiamo sette queste non sono cose che ho aperto io cioè ho gli impianti sono nate perché il territorio ha investito su questa questa progettualità e ha fatto diciamo come se avessimo seminato e poi sopra questo terreno fertile sono arrivati anche gli imprenditori che hanno aggiunto la loro la loro esperienza e i loro servizi perché oggi aprire una bike area senza un noleggio vorrebbe dire avere un prodotto che non è di qualità quindi le cose sono tutte strettamente collegate quindi al di là che vi può sembrare lontano prendete diciamo gli aspetti più magari di management non perché domani debba esserci un tracciato di gravity o un trail a San Benedetto non è questo l'obiettivo ma è più quello che ci sta dietro quindi far capire come ci si arriva per esempio un altro esempio importante su quale abbiamo lavorato col paese di Fai della Paganella è stato quello della valorizzazione del bosco che c'è nei boschi che ci sono a Fai della Paganella che sono dei boschi che sono stati anche certificati da FSC adesso che è l'ente che certifica tutti i boschi ecco la creazione del parco del respiro il parco del respiro è un'area all'aperto di ingresso pubblico quindi qui non si paga un biglietto tutto aperto aperto tutto l'anno ovviamente dà il meglio di sé in questo periodo quando ovviamente cambiano i colori di boschi insomma nei nostri territori ce ne sono tanti ma non solo da noi e dà l'opportunità di fare questo concetto che arriva di connettersi diciamo con il bosco questo concetto che arriva dal mondo orientale che si chiama appunto forest bathing o bagni nella foresta che è un concetto olistico ma anche scientifico e ve lo dice uno che all'inizio era scettico su questa cosa ma abbiamo fatto degli studi anche con dei ricercatori del CNR sono venuti e hanno proprio come dire misurato quello che le sostanze che gli alberi principalmente principalmente i faggi anche gli altri ma i faggi di più rilasciano verso l'esterno sono delle sostanze che si possono misurare che hanno un effetto diciamo benefico vi sembrerà banale questa cosa ma il parco e il respiro con poi una serie di infrastrutture che sono state create intorno perché vedete c'è un gate di accesso ci sono delle zone per riposarsi ci sono delle delle infrastrutture che amplificano l'esperienza oggi è uno dei prodotti o esperienze chiamatelo come volete che ci garantisce un'altissima visibilità dal punto di vista dei media io ho perso il conto di quante volte abbiamo ricevuto giornali testate televisioni che sono volute venire provare raccontare proprio far vedere cosa vuol dire una un'esperienza al parco del respiro vi sto parlando di attività di comunicazione non a pagamento cioè organiche tendenzialmente che nascono perché c'è un'esperienza un prodotto valido e vengono tirate su sempre sull'autunno perché il tema delle stagionalità avrete capito qua non c'è audio quindi non vi preoccupate abbiamo lavorato quest'anno vi faccio solo vedere mentre scorre dovrebbe muoversi questo è un è un mini sito dedicato all'autunno perché ovviamente ci interessa spingere moltissimo questa stagionalità quindi questa è una proposta purissima che abbiamo fatto con alcuni dei nostri imprenditori che prevede alcuni imprenditori alberghieri che danno diciamo una sorta di chiamiamolo cestino che poi in realtà è una piccola borsina dove dentro sono contenuti dei prodotti tipici per fare un picnic all'aperto forniamo noi una mappa del foliage forniamo noi altre indicazioni forniamo noi i sentieri che sono più adatti all'esperienza autunnale tra cui sicuramente c'è il parco del respiro sul tema dell'accessibilità siccome so che è uno dei temi che più che vi interessa diciamo non solo voi perché interessa a tutti in questo caso anche noi però vi porto anche la nostra la nostra esperienza che parte da un po' di anni diciamo quest'anno si è concretizzata in maniera ancora più forte perché abbiamo vinto un bando del ministero del turismo sull'accessibilità poi declinato nella provincia autonoma di Trento si chiama Trentino per tutti e diciamo abbiamo lavorato e lavoriamo e lavoreremo ancora molto soprattutto con due soggetti che sono una fondazione un'associazione la prima è SportFund la seconda si chiama Dolomity Open perché diciamo il nostro concetto è quello di creare una montagna il più possibile inclusiva quindi realizziamo eventi di carattere inclusivo sia nella stagione estiva sia nella stagione invernale ma quello che vedete l'evento non è altro che il punto poi di arrivo come spesso succede per gli eventi per raccontare per mettere in rete anche una serie di soggetti come per esempio i maestri sci che vedete a destra che si sono specializzati per accompagnare persone con disabilità fisica ma non solo a volte anche con disabilità più gravi mentre a sinistra per esempio vedete uno degli eventi più importanti che ormai noi supportiamo da dieci anni quest'anno è stato il decennale di Dolomiti Open che è appunto è un modo per far vivere le Dolomiti di Brenta che sono patrimoni dell'UNESCO anche a chi ha delle difficoltà fisiche anche superare anche i limiti quindi queste persone accompagnate da Guida Alpina accompagnate da persone esperte hanno anche sono atleti ovviamente non tutti per la verità ma hanno fatto anche qualcosa che per alcuni potrebbe andare oltre i limiti cioè scalare per esempio delle pareti delle Dolomiti fare l'alba cioè fare attività che prima potevano sembrare impensabili ci sono anche progetti più piccolini che noi mettiamo più piccolini ma non meno importanti inseriamo sempre nel campo dell'inclusività dell'accessibilità questo è un esempio che a me piace è un progetto che piace moltissimo racconto spesso perché lo ritengo veramente un progetto nato dal basso che noi abbiamo semplicemente potenziato quindi non mi ci prendo neanche nulla di merito zero perché è tutto frutto di ragazzi di persone che vivono la località qui siamo a San Lorenzo d'Orsino che è il paesino più a sud del lago di Molveno quella che vedete nella parte bianca era diciamo una falesia che negli anni 70 era una quindi una falesia una parete di arrampicata naturale era molto famosa per gli arrampicatori però questo era un territorio privato e negli anni poi questo è un territorio che i privati hanno deciso di non dare più accesso per una questione di responsabilità una questione di difficoltà di gestione diciamo che poi il bosco ha ripreso questa falesia e anche fino a qualche anno fa era tutto molto simile a questa zona che vi sto muovendo con il mouse questa associazione ha deciso attraverso un crowdfunding di acquistare lo spazio quindi ha comprato con la falesia dimenticata 1.0 questo spazio bianco qui e come vedete lo ha ripulito lo ha richiodato e lo ha restituito alla collettività non si paga per entrare l'accesso è libero se uno vuole fare lascia una donazione e adesso col progetto 2.0 che si è appena concluso ha acquistato acquistato vuol dire che è diventato proprietario di questi spazi che erano privati queste altre due porzioni della falesia adesso hanno iniziato la pulizia perché qui dietro gli alberi c'è la falesia quindi c'è il muro per arrampicare c'è la parete di roccia e la cosa interessante che grazie a questo progetto per esempio sono nati anche delle piccole imprese intorno a questa falesia è nato un piccolo bed and breakfast è nato un piccolo elemento di ristorazione sono cose piccole però sono cose importanti perché era una porzione di territorio totalmente dimenticato in effetti il nome qui è quanto mai centrato però questo anche per darvi restituzione noi abbiamo semplicemente supportato la campagna di crowdfunding ovviamente ci abbiamo messo del nostro anche come investimenti ma principalmente l'abbiamo spinta attraverso la comunicazione per supportare i ragazzi ed è un progetto molto molto diverso da quello per esempio che vi ho fatto vedere sul bike perché riteniamo che anche il nostro ruolo si debba un po' muovere lavoriamo guarda un po' veloce perché qui mi interessa solo farvi avere la prospettiva dei vari campi che trattiamo e questo potrebbe anche essere credo di interesse in generale per tutta l'Italia perché in tutta l'Italia ci sono produzioni vitivinicole c'è la necessità anche di valorizzare le produzioni enogastronomiche da qualche anno appunto dopo la riforma abbiamo lavoriamo in maniera molto stretta con il territorio della piana rotagliana quindi che ha fortissima vocazione vitivinicola di fatto è il loro prodotto punta qua ci sono poche strutture ricettive abbiamo immaginato con loro questo percorso che abbiamo chiamato Enotour Lab dove abbiamo accompagnato e continuiamo ad accompagnare gli imprenditori in questo caso agricoli cioè chi ha cantine e produce tendenzialmente vino di diversa tipologia da rossi e bianchi a le bullicine per mettere sul mercato esperienze turistiche accessibili agli ospiti che però andavano un po' oltre cioè vadano un po' oltre la classica visita in cantina arrivo mi fai vedere la vigna vengo nello shop assaggio un vino e me ne compro un vino se mi piace e me ne vado cioè quello che abbiamo cercato di innestare sono elementi diciamo nuovi il tema dell'arte il tema della musica il tema del gioco con le famiglie il tema dell'outdoor quindi la camminata il tema anche della bici perché abbiamo creato anche un itinerario di 50 chilometri che connette queste queste cantine quindi da un prodotto chiamiamolo Basic che è un prodotto che esisteva già come succede in tantissime parti d'Italia la necessità di evolvere in un prodotto in delle esperienze più anche particolari che vadano anche a raccontare anche la storia più profonda di queste persone che poi lavorano ogni giorno non è un percorso finito come non lo è nessuno di quelli che vi ho raccontato per la verità cioè sono percorsi che vanno avanti evolgono cambiano e anche si adattano poi al mercato un altro progetto interessante e anche questo legato a tecnicamente si chiama i sovesci qui siamo nell'ambito paesaggistico stiamo sviluppando insieme agli imprenditori agricoli la possibilità di avere delle semente che hanno un duplice ruolo un ruolo ovviamente quello di garantire la biodiversità della vigna ed evitare e ridurre il numero anche di materiale chimico che viene utilizzato per gestire la vigna e l'altro è anche un fattore estetico perché questi prati poi quando di solito la semenza si fa adesso tra ottobre e novembre in primavera fioriscono e sono uno spettacolo quindi diventa un'altra motivazione di visita per andare a vedere la vigna in primavera vigna che ovviamente come potete vedere anche da questa immagine ha poche cose nel senso che le foglie sono poche ma viene valorizzato dal punto di vista estetico questo giardino è un concetto che abbiamo chiamato del giardino del b nella comunicazione vi ho parlato poco però noi utilizziamo principalmente anche gli eventi come leva comunicativa abbiamo fatto una scelta di stare di non come dire non essere troppo specializzati in eventi di natura agonistica anche se ne facciamo qualcuno quindi ospitiamo eventi sportivi ma ci teniamo che questi eventi abbiano qualche caratteristica un po' diversa mi spiego meglio cioè a noi interessa più la parte delle community cioè la parte dei gruppi di persone che vengono a fare un determinato sport una determinata attività che però siamo uniti tendenzialmente da una passione quindi ci interessa meno l'aspetto agonistico ma ci interessa più l'aspetto di lifestyle e di comunicazione la foto che vedete sullo sfondo è l'evento di apertura che facciamo ogni anno della bike area e che di fatto è un festival musicale rivolto tendenzialmente ai bikers e lo vedete qua siamo al 29 di maggio quindi è proprio l'inizio di stagione siamo alla base del bike park abbiamo appena ospitato magari qualcuno di voi questo evento lo conosce perché viene fatto una versione una tappa viene fatta nella vicina diciamo pur siamo in Abruzzo a Scanno è un evento di cross triathlon si chiama quindi è un triathlon di fatto nuoto bicicorsa però è la versione off-road e quindi nuoto si fa nel lago e poi si fa mountain bike e si fa corsa in montagna perché abbiamo ospitato il campionato del mondo ormai al terzo anno dopo che per 20 anni questo campionato del mondo è stato a Maui nelle Hawaii perché Xterra ha una diciamo un focus molto importante sulla parte della community sulla parte delle persone cioè l'aspetto della gara di per sé non è che non sia importante ma forse meno importante di quello di viaggiare su un territorio provare i sentieri incontrare la sua comunità incontrare la comunità degli atleti quindi cerchiamo di selezionare molto anche gli eventi che abbiamo questa è una delle foto della serata per far capire la necessità di creare queste community che poi sul quale possiamo ovviamente andare a proporre il nostro prodotto turistico perché abbiamo i sentieri per correre abbiamo i sentieri per andare in bici abbiamo il lago di Molveno quindi ovviamente ci vuole una coerenza di prodotto ma anche una coerenza di strategia un altro evento poi chiudo sulla carrelata con gli eventi è questo che viene fatto sempre a settembre non l'ho detto ma forse l'avete intuito i grandi eventi che ospitiamo non li facciamo mai a luglio-agosto i grandi eventi sono o in primavera o in autunno luglio-agosto c'è un livello curato di animazione c'è un livello curato di eventi che ovviamente sono pensati per gli ospiti che arrivano ma non c'è un investimento importante su un campionato del mondo per esempio a luglio-agosto perché per noi non ha senso nel senso che porterebbe un ulteriore stress alla comunità al territorio in termini di impatto oltretutto è molto poi difficile trovare gli spazi perché i tassi di occupazione sono già alti nei periodi di luglio ed agosto e quindi preferiamo spalmare questi eventi sulle stagioni primaverili e autunnali Luca sta cosa sugli eventi qui ha suscitato un brusio che non li fate che non li fate nel centro nel cuore della stagione perché ovviamente questo è uno dei temi sul tavolo anche dell'offerta turistica di un territorio i grandi eventi in quale periodo dell'anno concentrarsi e concentrare gli investimenti ma io insomma su questo negli anni ho maturato questa questa convinzione diciamo esperienza che gli eventi siano importanti però devono avere almeno dal nostro punto di vista alcune caratteristiche uno appunto devono avere una coerenza di qualche tipo con esperienze prodotti turistici che io posso offrire perché se sono totalmente decontestualizzati potrebbero anche andare bene ma devo essere conscio che l'effetto dell'evento è molto più veloce cioè succede tutto e poi l'evento nel momento in cui l'evento è andato via va via quasi tutto nel senso l'effetto che mi lascia non è non è lo stesso di un evento che insiste su infrastrutture su concetti poi possono essere n cose possono anche essere eventi culturali non per forza sportivi per noi è più semplice lavorare in eventi sportivi o all'aria aperta ma Orme per esempio è un evento più di carattere culturale però perché ci interessa Orme per esempio perché a settembre perché viene fatto nella comunità di Fai della Paganella perché si parla di sentieri perché si parla di camminare lento perché si parla di comunità rurali perché si parla di vivere la natura in maniera diversa e quindi più legata anche al tema della sostenibilità e l'altro aspetto quindi coerenza col prodotto tre sono gli aspetti che mettiamo in considerazione coerenza col prodotto con le esperienze stagionalità quindi non nei picchi di stagione perché non ci servono e creerebbero una bilancia tra costi benefici opportunità e problematiche penderebbe molto di più sulla parte problematica e la terza è che tipo di mercati riusciamo ad aggredire con questi eventi la maggior parte dei grandi eventi che supportiamo hanno una dimensione anche internazionale perché l'evento è sì uno straordinario strumento per arrivare anche sui mercati esteri Xterra sono 42 nazioni 1100 persone di cui il 10% sono italiani quindi noi quelle persone dal Canada Hong Kong non avremmo mai portate senza l'evento non è detto che tutte tornino sono tantissimi europei anche che vengono che ho preso quelli più estremi ovviamente ma ci sono tantissimi europei che sappiamo che tornano dalla Germania dalla Francia dall'Austria dall'Inghilterra anche qualche asiatico per la verità quindi queste tre caratteristiche sono quelle che noi che teniamo in considerazione sugli eventi perfetto grazie per averci tracciato il nostro libro dei sogni vabbè siamo arrivati anche noi per la verità nel senso che non è una cosa io ho raccontato vi sto raccontando anche di un percorso non è tutto on off quello che viene fatto non è tutto lo immaginiamo immediato infatti io passerei dopo l'illustrazione di tutto questo carnet di prodotti turistici che siete riusciti a costruire passerei un po' atterrerei un po' qui sul nostro territorio e vorrei innanzitutto capire se ci sono domande dalla platea e altrimenti te ne faccio proprio una io banale 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 c'è un c'è una domanda dal tavolo c'è prima l'assessore le diamo un microfono ok allora eh grazie Luca e niente la sensazione eh dopo questa corposa illustrazione ecco la mia personalmente è come di un senso di inferiorità atroce non vorrei che si possa spastare quindi però ecco questo sicuramente non ci deve scoraggiare ma anzi anzi deve incoraggiarci ancora di più e coglievo questa cosa tra quelle che hai detto no gli eventi eh in fuori stagione orientativamente grandi eventi primavera e autunno giustamente però eh nel al centro diciamo della stagione vera e propria dicevi intrattenimento animazione di qualità oppure anche servizio io direi no però aiutami a comprendere questa cosa eh al centro della stagione per esempio la nostra che è balneare ehm ci dove ci dovrebbero dovrebbero esserci dei servizi tali eh per cui il turista dovrebbe vivere delle esperienze eh di un certo tipo che eh da cui è diciamo attratto è positivamente diciamo attratto per cui non ha bisogno del grande evento giusto? allora ehm gli eventi diciamo è un tema molto complesso ovviamente eh i grandi eventi sono quelli diciamo strumenti che fungono da motivazione anche di vacanza cioè arrivo io in un determinato territorio perché sto venendo a partecipare o in maniera sportiva in maniera culturale o qualsiasi tipologia sia a quell'evento cioè senza quell'evento non sarei venuto semplifichiamolo al massimo per quanto riguarda l'attività di animazione o di esperienze io la mia motivazione è un'altra io vengo a San Benedetto non perché nella sera del non lo so sto sparando dell'undici di agosto c'è l'incontro con l'autore l'incontro con l'autore va benissimo ma non è la mia motivazione di vacanza serve ad arricchire ho tirato a indovinare non lo so se c'è va benissimo non lo dico in maniera negativa però quella cosa lì non mi può servire a dire diventa la motivazione di vacanza di una persona vengo specificatamente una cosa che gli ospiti trovano nel momento in cui arrivano probabilmente prima non lo sapevano nel momento in cui sono lì e arricchisce la loro esperienza di vacanza finale e che contribuisce poi a lasciare un ricordo positivo e poi a generare il passaparola che rimane ancora l'elemento di come dire penetrazione e comunicazione migliore che esista anche nell'epoca digitale anche nell'epoca dei social adesso anticipo ma noi crediamo che il ruolo delle DMU vi faccio una metafora sia quello di costruire il miglior parcoscenico possibile dove le esperienze degli ospiti accadono cioè noi costruiamo parcoscenici poi la tetralizzazione dello spettacolo non la fa la DMU la fanno gli imprenditori che stanno al contatto con gli ospiti la fanno chi costruisce servizi esperienze cioè noi costruiamo le condizioni fondamentalmente facilitiamo le condizioni affinché nascano e si creino esperienze di valore e quelle esperienze connettano gli ospiti e quelle esperienze poi fanno in modo che gli ospiti raccontino la località perché un'esperienza di vacanza è una cosa molto complessa cioè è un touch point sono n touch point che io tocco quando faccio un viaggio e non c'è una sola cosa che mi può influenzare sono n cose che mi influenzano anche negativamente sia positivamente che negativamente quindi il ruolo della DMU moderna che è un ruolo che l'avrete capito che è molto più di management che di marketing questo mi sembrava chiaro ma ridiciamolo spesso DMU sono chiamate anche destination marketing organization noi su questo ci siamo staccati radicalmente perché DMU sta per noi almeno sta in destination management organization quindi da questo punto di vista siamo super convinti che questo sia la strada giusta altro passaggio è che quello detto all'inizio non è detto che il ruolo DMU debba essere uguale su tutte le progettualità può essere anche diverso noi abbiamo chiamato geometrie variabili può essere piccolo come quello della falese dimenticata dove noi abbiamo semplicemente aiutato e amplificato un progetto che c'era già o può essere molto più grande come sul bike dove noi guidiamo e coordiniamo la progettualità perfetto grazie intanto esortiamo la platea ad interagire un attimo con allora abbiamo un paio di prenotazioni c'è la signorina che ti faremo vedere magari se ti alzi così ti vede anche lui salve buonasera sono Maria Vittoria Casparroni io avrei tre domande molto brevi la prima mi rivolgo a Mauro Alfonsi e all'assessore non ricordo il nome Paganelli ah Campanelli scusate la mia domanda è noi siamo qui perché state dicendo c'è la volontà di costruire una DMO del Piceno la mia domanda è questa volontà visto che qui ci sono rappresentanti del pubblico delle istituzioni pubbliche c'è anche una volontà da parte del privato cioè dagli imprenditori cioè prima perché io qui leggevo che alla fine della giornata del 25 si vuole approvare un documento di intenti la mia domanda è c'è questa comunità di intenti e se c'è in che modo l'avete individuata e chi ve ne fa parte perché alla fine gli imprenditori non sono filosofi sono imprenditori quindi alla fine del mese devono come dire far quadrare i conti poi la seconda domanda è visto che siamo in un'università e ci sono qui due rappresentanti due professori e l'università è un po' il luogo in cui non so se si formano i professionisti del futuro dovrebbe ma sicuramente si formano le menti è il luogo in cui si mettono al lavoro gli ingranaggi del cervello che è quello che anche stiamo facendo qui che ruolo possono avere le università all'interno di questo vostro progetto infine la terza domanda è quali sono i rischi per chi è la terza sempre per voi perché volevamo fare delle domande a Luca poi magari noi rispondiamo successivamente comunque vai avanti poi la terza domanda è riguarda i rischi all'interno di questo vostro progetto quali sono i rischi che avete già individuato e in che modo pensate di arginarli o comunque o a perlomeno di anche porvi rimedio grazie ok grazie Maria Vittoria penso che risponderemo fra un po' magari noi poi dopo facciamo fare la domanda Mauro se è per Luca o è per il tavolo perfetto buongiorno buongiorno sono Mauro Fumagalli di Marche Bike Life e sono il project manager del progetto Noi Marche Bike Life Noi Marche Bike Life mi rivolgo anche a Luca D'Angelo Noi Marche Bike Life è un progetto un protocollo di intesa non siamo ancora riusciti a diventare una DMO ma è un protocollo di intesa fatto con un comune capofila dove abbiamo inserito all'interno di questo protocollo di intesa 29 comuni della regione Marche che si sono organizzati per strutturare un progetto ciclo turistico su quasi 700 chilometri di itinerari su tutta la regione Marche ringrazio innanzitutto Luca D'Angelo perché ci ha dato comunque dei buoni consigli ma soprattutto ci ha sottolineato che noi nelle Marche abbiamo tutto abbiamo anche noi tutto quello che Luca D'Angelo comunque ha raccontato abbiamo la montagna abbiamo le colline abbiamo l'arte la cultura la storia l'enogastronomia in più abbiamo anche il mare insieme forse magari ci ha ricordato che la capacità del Trentino Alto Adige in questo caso il FAI della Paganella è stata quella di fare comunque accordo di fare collaborazione tra chi? tra il basso tra gli operatori perché anche noi per esempio che abbiamo questo progetto e quindi come dire lo propongo anche al professore che comunque magari non lo conosce ma comunque è un progetto che è stato premiato anche nel 2022 dall'Oscar Nazionale del cicloturismo perché siamo la seconda ciclovia migliore d'Italia quindi abbiamo avuto delle difficoltà in che cosa? nell'ottenere i servizi dalla parte bassa dalle strutture ricettive o da tutta una serie di altri operatori del settore quindi io voglio dire l'amministrazione pubblica deve fare il proprio lavoro quindi deve coordinare deve fare la cabina di regia però invito tanti operatori come me commerciali a darsi da fare e a cercare di capire che c'è veramente un tessuto che può dare tanto grazie a Luca D'Angelo per questa sottolineatura grazie mille grazie Mauro allora se ci sono altre domande per Luca magari vediamo c'è qualcuno in fondo in fondo in fondo poi Vittoria rispondere Maria Vittoria rispondere mi riagaccio a quello che è stato detto adesso ecco perché volevo intervenire la domanda è come avviene il coinvolgimento di tutti gli operatori cioè secondo la problematica principale della partenza di qualsiasi progetto è il coinvolgimento degli operatori tutti perché il signor D'Angelo ha detto una cosa importantissima che praticamente loro sono riusciti ad avere per il buon fine del progetto il coinvolgimento della stragrande maggioranza degli operatori privati è lì dove secondo il mio punto di vista ma penso un po' di tutti qui in questa platea è lo scoglio più importante perché non è che si possa fare una forzatura o costringere le persone a partecipare a un progetto però se non c'è il numero dei partecipanti il progetto muore all'inizio quindi un consiglio già che noi siamo molto lontani molto molto lontani da questo progetto bellissimo della Paganella ma siamo lontani concettualmente come predisposizione come mentalità come tutto quindi abbiamo bisogno di avvicinarci prima di tutto a questo modo nuovo di pensare coinvolgere il più possibile il numero delle persone e degli operatori grazie penso infatti che il proseguio dell'intervento di Luca fosse incentrato proprio su quello penso come su questo ci tengo magari perché è interessante vi ringrazio per gli stimoli allora io non ho le ricette ovviamente come potete immaginare perché le destinazioni sono organismi molto complessi quindi io conosco San Benedetto perché ci sono passato essendo abruzzese ovviamente lo conosco però non conosco nel dettaglio le dinamiche ma al di là di questo rispetto alla all'esperienza alla mia esperienza quindi quello che io ho visto in Trentino e quello che vedo anche in altri luoghi d'Italia se dovessi diciamo dire due tre aspetti principali su quali io non negozierei cioè andrebbero messi e bisogna tenerli lì allora noi quello che quello che vi ho fatto vedere è reso possibile perché abbiamo una solidità e anche una garanzia di investimenti nel tempo se lavoriamo solo per spot se lavoriamo senza avere la certezza che l'anno successivo ci possono essere delle risorse bastano anche poche risorse io mi rendo conto che magari non si può arrivare ad avere il budget che noi abbiamo subito anche se poi le risorse in realtà in qualche modo in giro ci sono perché non è che non esistano il turismo comunque porta tantissime destinazioni italiane ricchezza però ci vuole stabilità una DMO che non ha stabilità chiamata come volete DMO APT un soggetto che deve fare un po' da guida che deve definire delle priorità se non ha stabilità non va da nessuna parte questo ve lo dico proprio per esperienza quindi ci vuole il tempo è un fattore quindi se da domani voi iniziate questo percorso immaginatevi che non sarà una cosa del dopodomani ma ci vorrà del tempo ci vorranno gli step però bisogna tenerli quegli step e gli step come li si tengono si tengono con una solidità e una garanzia di finanziamento quanto è uno per far costruire e far lavorare la macchina e poi con delle scelte le scelte si possono fare in maniera condivisa con la comunità e credo che il lavoro che la prossima volta che vi incontrerete sarete chiamati a fare è quello di individuare le priorità piuttosto ci si impiega un po' di più a individuare le priorità le priorità non possono essere 150 le priorità se no non sarebbero priorità quindi sono poche su quelle poche bisogna tenere e di nuovo ritorna il fattore tempo perché se si parte si continua ad aprire finestre finestrelle porte variazioni eccetera diventa tutto molto molto difficile io il lavoro che vi ho condensato in 5 minuti del bike noi ci abbiamo messo 10 anni a farlo cioè non è una roba così certo c'erano già le condizioni c'erano c'erano alcune cose che magari al momento oggi non ci sono se mi hai detto però comunque ci è voluto del tempo ci è voluto il momento per come dire per condividere che quello era una linea di sviluppo perché vedevamo delle potenzialità quindi noi l'abbiamo proposto poi sono aggregati gli impianti ho detto ok ci stiamo finanziamo poi sono arrivati gli imprenditori alberghieri che hanno detto ok ci specializziamo poi sono arrivati poi non è per forza temporale ma insomma soggetti che si sono aggregati ma perché si sono aggregati perché c'era una prospettiva di sviluppo che non era domani ma almeno guardava un po' in avanti quindi ci vuole sicuramente all'inizio la capacità e anche come dire la possibilità un atto di coraggio e anche di fiducia da parte degli imprenditori e di fiducia e di coraggio nel chi deve poi guidare questo sviluppo che è comunque uno sviluppo complicato perché è complicato ci saranno la voglia di prendere le scorciatoie ci sarà la voglia di prendere dei tour se non sono delle scorciatoie e di far singolosire da tante cose voi non avete idea di a quante cose noi rinunciamo a quante cose scusami scusami Luca ti trompo appunto per poi anche per rispetto di Maria Vittoria che ci ha fatto questa domanda perché praticamente stai dando un po' la prima risposta alla sua domanda che cosa stiamo facendo perché vogliamo farlo cioè è questo la nostra necessità diventa adesso questa per organizzare questo territorio poi di cui definiremo il perimetro insieme con un percorso partecipato che veda come protagonisti come dicevo all'inizio i privati e quello che l'esperienza che ci ha raccontato Luca penso che vada ad avvalorare un po' questo tipo di discorso come farlo come farlo per descrivere un po' il metodo che utilizzeremo rapidamente c'è Sergio Trevisani che è il nostro collega che si occupa di progettazione europea e transizione ecologica Sergio spiegaci il metodo come farlo è quello che faremo a partire dal 18 in realtà abbiamo dato un nome a questo progetto che si chiama Worship perché è un laboratorio quindi come tutte le cose che devono diventare poi un domani andare a regime hanno bisogno di una fase di studio e di lavorazione entriamo in un laboratorio noi siamo tutti coloro che entrano in questo laboratorio per dare un loro apporto di conoscenza un rapporto di esperienza e una disponibilità e qui automaticamente rispondo anche alla signora in rafforzamento a quello che ha detto Luca D'Angelo è anche una disponibilità in questa fase non c'è una reale disponibilità in termini materiali ma è quella di idee perché in molte occasioni capiterà e lo vedrete che ci sono delle idee che sono dentro di noi ma che non sono mai emerse perché non sono mai espresse in un contesto di collettivo e che poi alla fine producono uno strumento che io ogni volta lo ribadisco che è quello di creare in realtà una comunità cioè quello che stiamo cercando di fare noi su questa area è quello che una destination management e sono contento che D'Angelo ha detto non è marketing è management e questo è fondamentale perché altrimenti finiamo sempre con i piani di marketing e poi ci riteniamo in tasca o li facciamo più o meno autonomamente no qui si fa management il management è applicazione di una teoria metodologica in termini pratici quindi quello che faremo dal 18 poi io ho l'ultima parte quindi non la racconto tutta adesso la racconto alla fine l'ultimo intervento sarà il mio per spiegare come lavoreremo negli ultimi successivi due giorni per fare management bisogna che lo pensiamo e che lo realizziamo possibilmente con più persone possibili al lavoro poi do la parola al professor Temperini per quanto riguarda la risposta sul ruolo delle università all'interno di questo percorso chiaramente l'università non è un ente che entra in progetti di questo tipo quindi di destination management organization quindi il nostro sarà un contributo sullo sviluppo di questi tavoli di questi incontri quindi diamo un supporto all'implementazione del metodo e poi l'università sul territorio insomma darà il suo contributo con la ricerca con la formazione quindi cercheremo anche di sviluppare magari dei corsi che vadano a potenziare le competenze nella filiera turistica nel sistema turistico diciamo più ampio questo sicuramente può essere insomma un nostro un nostro obiettivo tra l'altro stiamo già ipotizzando ecco qualche qualche corso sui rischi già uno è stato già detto perché il rischio è avere un approccio a breve termine quindi questo è sbagliato poi sicuramente ecco D'Angelo sarà sì magari Luca darci qualche vista l'esperienza profezia sui rischi no ma non ho questa non ho questa capacità perché faccio faccio il manager di binatoria capacità di binatorie no 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 non le ho quindi non sono quelli che io raccontarci raccontarci cosa è stato e cosa sarà il tuo future lab magari adesso questo proposito di metodi e di approcci e poi volevo aggiungere che questo innanzitutto appunto non è un progetto è un qualcosa di più e non è il nostro visto che ma è di tutti la condivisione anche diciamo negli inviti che sono stati fatti l'invito è stato fatto alla cittadinanza tutta cioè dei comuni anche limitrofi quindi il territorio in qualche modo deve diventare protagonista quindi il supporto di quelli che possono essere le forze in questo caso anche dell'università l'università ovviamente ha i compiti naturalmente di preparare elementi appunto come dicevamo prima ma anche di guidare per esempio nei confronti di occasioni che possono essere finanziamenti europei il fatto di poter partecipare a degli studi uno dei progetti a cui San Benedetto ha partecipato negli ultimi anni grazie appunto alla collaborazione di una delle due università riguardava appunto la digitalizzazione del turismo e praticamente in tutto il programma Cosme solo la città di San Benedetto come municipalità ha partecipato a questi progetti questo nella precedente diciamo appunto programmazione quindi l'obiettivo dell'università non è fare la consulenza ma è appunto supportare il territorio con un'ottica appunto di futuro appunto e quindi di conseguenza è la crescita quello che ci interessa di più dei territori e poi dove appunto un territorio da solo non riesce in qualche modo a evolversi l'università può dare degli spunti quindi ovviamente nelle lezioni cerchiamo sempre appunto anche di portare un minimo di futuro anche se la palla non ce l'abbiamo però studiando il messaggio forte anche che non esistono una strategia che vale per tutti non esiste un modello che vale per tutti quindi quello che ha funzionato nelle Dolomiti è d'ispirazione ma ovviamente ce lo dobbiamo costruire ce lo devono costruire gli attori del territorio e siamo qui per questo per mettere su i primi mattoni direi no? aggiungere scusate perché poi dopo magari facciamo un passino avanti ma l'avete l'ho già detto e l'avete ridetto anche voi uno dei rischi attenzione è che il management è molto meno sexy del marketing e siccome è meno sexy è più difficile da gestire perché i risultati hanno necessità di tempo per arrivare mentre una campagna diciamo fatta bene ha un effetto in campagna di promozione di marketing ha un effetto che è immediato però finisce anche subito nel senso che l'effetto arriva subito ma finisce subito è un po' etereo per arrivare a dei risultati concreti ci vuole più tempo e soprattutto per arrivare a quei risultati quello che ci sta dietro non si vede la comunità la collettività non lo vede quindi se un altro consiglio che mi posso che vorrei darvi rispetto alle nostre esperienze che vi faccio vedere a breve del Future Lab è raccontare anche queste cose perché spesso quello che ci sta dietro nel management non si sa o lo si dà per scontato ma sì tanto è facile ma sì tanto che vuoi che sia è una banalità ma in realtà è molto più semplice fare una campagna di promozione che costruire un'esperienza un prodotto turistico o rafforzarlo o mettere insieme soggetti privati e soggetti pubblici grazie ci sono altre domande allora un attimo se era poi dopo c'era Sandro Assenti presidente di esercenti turismo Marche possiamo chiedere a chi ha fatto tre domande se ha avuto la risposta e se sono state soddisfacenti perfetto grazie puoi portare il microfono per favore grazie il valletto buongiorno grazie per averci invitato Sandro grazie che ci avete invitato perché è chiaro quanto si si fanno delle cose così grandi si sente io vorrei fare una piccola analisi che si dovrebbe inserire in quello che è stato detto oggi che è molto interessante e cioè ci sono degli aspetti che sono diciamo così endemici delle problematiche endemici quali possono essere le nostre strutture i collegamenti che chiaramente per qualsiasi progetto si va incontro bisogna guardare quelle che sono le problematiche del nostro territorio perché altrimenti si fanno delle programmazioni che non sono attinenti con le nostre potenzialità e quindi quando si parla di questi programmi di questo management alcune cose possono essere utilizzate come appunto le strategie sono fondamentali i finanziamenti e poi si vanno a scontrare con questi elementi 10 mettere poi un altro elemento che a volte non vengono fuori nei convegni cioè quella sorta di campanilismo no? cioè noi siamo proprio intrisi di campanilismo in questo nostro territorio cioè pensare cioè io vedo spesso dei compartimenti stagni e questo è difficile sbloccare ma lo vediamo sta qui chiaramente sappiamo quello che può succedere tra San Betto e Ascoli non ci parliamo ma non ci parliamo a livello politico a livello locale a livello sportivo quindi non ci parliamo e vedo anche nei paesi quando qualche volta magari per il mio ruolo sono costretto o vado volentieri a parlare con i borghi cioè ognuno ha proprio la sua potenzialità la sua caratteristica quindi quando sento queste situazioni sinergiche di sinergie io lo pongo qui al convegno sapere se questi meccanismi se questa cosa qui si può sbloccare perché secondo me sta alla base di quello che noi stiamo facendo oggi cioè sapere se c'è la volontà di sinergie per poter far sì che un progetto possa essere acquisito anche da chi ha tutt'altro modo visivo poi si diceva appunto che le marche terra e costa borghi e chalet quindi mare e terra sapere se ci può stare cosa che non c'è mai stata questa sorta di collegamento perché oggi le vacanze sono esperienziali questo è un termine che si usa spesso cioè uno non vuole soltanto mangiare la cozza lo spaghetto alle cozze al mare o vedere qualcosa oggi uno vuole sapere il territorio cosa propone questo dovrebbe essere la base di tutto quello che è poi un altro aspetto noi non stiamo pensando più in grande io vedo che noi stiamo pensando in modo ordinario oggi siamo ministri un sindaco oggi ha mille problemi che guarda più quello che dice una minoranza o una maggioranza e non riesce più a esprimersi io se vedo San Benedetto noi abbiamo fatto tre stadi nel giro di 80 anni abbiamo fatto la zona portuale abbiamo fatto il palariviera abbiamo fatto il lungomare cioè erano pensieri ampi oggi noi io vedo si pensa in piccolo e questa è una cosa che secondo me va messo in questo contesto perché dobbiamo cominciare a ripensare in grande che secondo me è fondamentale per un turismo perché io sento sempre questa frase le potenzialità mi sono stufasi di sentire le potenzialità oggi voglio vedere le cose realizzate se le cose sono realizzate allora io le acquisisco e faccio un plauso altrimenti da quando sono piccolino che mi dicono San Metto ha delle grandissime potenzialità e allora sfruttiamole facciamole se noi rimangono sempre tali poi concludo mi piacerebbe che un domani quando uno viene nel nostro territorio se uno oggi va a Leccio a Bari dice vado in Puglia se uno va a Nuoro dice vado in Sardegna quando sarebbe bello se uno dico io vado nelle Marche io penso che tra un pesarese un maceratese un samanettese o a Scolano dicono voi mentre sto parlando se ci sta un'attinenza ecco questo è un aspetto che ho voluto mettere nel convegno che secondo me è un aspetto fondamentale allora grazie Sandro mi permetto di rispondere a una parte sì poi c'è lui mi permetto di rispondere a una parte della tua domanda quella che riguarda diciamo non solo i campanili ma anche l'aspetto tra virgolette politico no? di quello di cui parlavi il nostro obiettivo è proprio questo è proprio far leva sull'interesse dei privati perché siano i privati a trainare questo processo impedendo alle alla parte pubblica in qualche maniera di tirarsi fuori ok? cioè nel senso che è passato il tempo in cui i comuni proponevano e i privati dovevano andare dietro cioè oggi siamo qui per definire una strategia insieme a prescindere dai colori politici e dai campanili questa è una precisazione che poi dopo giustamente quelli che tu individui come potenziali criticità le conosciamo tutti perché ci conosciamo da anni questa era diciamo una parte della risposta che volevo darti poi non so ecco se magari intanto Luca hai qualcosa da aggiungere alla domanda di Sandro no ma allora il tema ovviamente abbiamo capito che è molto complesso anche io di potenzialità ovviamente ne sento parlare spesso il problema è che probabilmente sono troppe quelle potenzialità cioè vanno ridotte no? a volte sono eccessive in termini numeriche potrebbero esserci io vi faccio un esempio sempre vi porto il nostro territorio quando abbiamo switchato diciamo abbiamo cambiato totalmente strategia il nostro ruolo noi l'abbiamo fatto utilizzando un metodo scientifico che magari il professor di Nau lo conosco comunque arriva dalla Svizzera molto pragmatico si chiama metodo Sangallo per il destination management e di fatto consente di mappare quelli che sono i flussi turistici in territorio andando a fare delle analisi con gli operatori locali e al di là del metodo di per sé quello che è uscito è che ci sono tantissimi flussi turistici che noi non gestiamo e che non è detto che dobbiamo gestire cioè potrebbero rimanere lì ok non hanno necessità né di una gestione né magari sono interessanti perché sono di nicchia rimangono in un determinato posto e non è detto ne abbiamo mappati 85 ok tra quegli 85 noi poi siamo andati a definire che per esempio quello del bike nella versione non che avevamo in quel momento ma in quello evoluto aveva delle potenzialità e là ci abbiamo messo la testa ma l'abbiamo fatto su due cose non su 85 cioè la scelta che non è che ho fatto io da solo l'abbiamo fatta insieme è questa è scegliere bisogna essere bravi ovviamente a capire dove può stare la maggiore potenzialità ma vi posso assicurare che non si può fare tutto prima questione seconda questione campanilismo se la domanda è riusciremo mai ad abbattere i campanilismi la mia risposta è no però si possono gestire i campanilismi perché anche in Trentino ci sono fidatemi io lavoro con 12 comuni quindi vi posso assicurare che anche tra quelli non quelli lontani della valle quelli dell'altopiano ma anche tra quelli dell'altopiano c'erano in maniera molto forte ci sono ancora in maniera molto più debole come si indeboliscono quando si costruiscono esperienze e prodotti turistici che collegano ok che lavorano e vanno sopra al di là dell'infrastruttura che può avere un comune piuttosto che quella che può avere un altro perché poi l'ospite quando viaggia e interagisce non interagisce con i confini amministrativi interagisce con le persone con i tracciati nel nostro caso con i servizi con gli imprenditori ma non è interessato a capire il delirio scusatemi il termine la battuta che c'è nei nostri confini amministrativi non è una cosa ma noi stessi quando andiamo in vacanza cioè non serve per andare molto lontano immaginate quando andiamo di vacanza a voi e non state a guardare cosa c'è cosa c'è dietro vi interessa quello che è l'esperienza che vivete in quel momento quindi i campanellismi di per sé l'obiettivo non è quello di abbatterli ma è di gestirli e si può fare si può fare però seguendo quelle regole che dicevamo prima visione coerenza stabilità e scelte allora grazie intanto per la risposta rapidamente c'è una domanda qui in prima fila poi c'è il presidente dell'associazione albergatore Riviera delle Palme che voleva fare un'altra domanda sì salve la mia domanda era sull'aspetto di inclusività mi chiamo Niccolò Scarnato lavoro al ristorante La Panoramica e sono una persona nello spettro autistico diciamo che io la prima barriera guardando il sito l'ho trovata proprio sul sito perché trovo maestri o operatori specializzati per persone con disabilità psichiche però questa specializzazione questa formazione non è spiegato di cosa si tratta cioè non viene detto se andando lì i miei comportamenti saranno compresi nella sua funzione invece che essere frantisi come da altre parti non è detto la sensorialità dell'ambiente che mi aspetta quale sarà non è specificato se questi maestri operatori comunicheranno in maniera letterale per rendere più comprensibile e mi domando se queste informazioni se esistono dove le posso trovare e qualora dovessi trovarle facendo delle domande a qualcuno interagendo con qualcuno ecco la prima barriera è quella perché quando c'è una disabilità social-relazionale avrei necessità di trovare tutto scritto tutto spiegato sul sito e così come è messo non mi farebbe scegliere di fare questa esperienza quindi la mia domanda è è una domanda sia su dove posso trovare queste informazioni che ho elencato sia un suggerimento nel caso in cui non siano presenti queste informazioni da nessuna parte di inserirlo e sia diciamo una dichiarazione di intenti perché se lo dobbiamo fare qua lo dobbiamo fare perfetto per la disabilità per tutte le disabilità grazie mille grazie allora intanto ti ringrazio per il commento per l'analisi allora due cose uno come ho raccontato io ho raccontato quello che noi abbiamo iniziato a fare dicendo che appunto è un percorso quindi siamo assolutamente consci che non abbiamo non abbiamo finito questo percorso il sito che stai vedendo tu in maggio è Visit Dolomi di Paganella quello il nostro tra pochissimo verrà totalmente modificato perché andiamo su una nuova una nuova piattaforma una nuova struttura e quindi non abbiamo inserito contenuti per la verità nel percorso che abbiamo fatto con la i nostri le nostre associazioni non ci siamo ad oggi focalizzati sulla mappatura singola dei servizi entrando nelle specificità che giustamente tu citavi oggi noi abbiamo lavorato più perché lì eravamo sicuri di poter di essere certi che l'esperienza potesse essere di un determinato tipo la promessa che facevamo tra virgolette era che durante le esperienze inclusive durante gli eventi di Dolomiti Open o le esperienze inclusive sugli sci o la formazione che abbiamo fatto verso le guide alpine gli accompagnatori di territorio allora lì eravamo certi siccome non siamo certi di come si comportino poi anche tutti gli altri imprenditori e oggi vi ho raccontato il progetto ma se tu guardi però non c'è una dichiarazione oggi sul nostro sito legata all'accessibilità perché mi rendo esattamente conto che non siamo ancora pronti per fare quella dichiarazione quindi non abbiamo comunicato io vi ho comunicato vi ho raccontato un po' dietro le quinte ma è un percorso ancora lungo che dobbiamo fare quindi siamo partiti così che abbiamo comunicato e lì eravamo certi e sicuri perché abbiamo lavorato con persone competenti gli eventi e gli open day accessibili allora lì sì lì sì perché quello è uno spazio ovviamente più semplice mi rendo conto che inizia e finisce però lì eravamo certi di farlo quindi non abbiamo fatto volutamente promesse di dire Paganella territorio accessivo inclusivo certificato passiamo il termine che è una prova che non mi piace tra l'altro e non userò mai anche qualora ce l'avessimo non lo userò perché non siamo pronti perché è un percorso ancora più lungo ma perché non siamo pronti perché dobbiamo accompagnare gli imprenditori a poter fare e poter rispondere nel senso che il contatto con l'ospite che sia qualsiasi spettro di disabilità possa avere non ce l'abbiamo poi noi noi potremmo avercelo nel momento in cui entra in ufficio informazione e basta come l'azienda che io dirigo per il resto i contatti sono all'esterno quindi noi lavoriamo più dietro le quinte ma il lavoro è ancora lungo quindi grazie anche per gli stimoli grazie Luca adesso abbiamo una domanda del presidente dell'associazione albergatori Riviera delle Palme Nicola Mozzoni ti puoi alzare Nicola perché magari ti vede la camera sta qui non so se ciao eccoci lo entra a vedere allora mi sento un sacco osservato ciao a tutti no allora innanzitutto grazie perché io sono felicissimo che sia stato proposto questo workshop appena avevamo già parlato quindi sono d'accordo nella creazione di questa DMO poi da valutare il come però ho delle domande qualche provocazione qualcuna per Luca qualcuna anche per il tavolo volevo rispondere anche io alla ragazza che diceva se il privato è pronto il privato è pronto te lo posso garantire avrei anche dei nomi da farti tra cui no sicuramente il privato c'è per sposare questo progetto ne abbiamo già parlato e sicuramente il privato c'è però la mia domanda è un'altra a questo punto perché lui parlava dell'85% della tassa di soggiorno che rientra si parlava anche di una card con il trasporto gratis card di cui abbiamo parlato a maggio c'è stata negata con il trasporto gratis quindi la mia domanda è ma il pubblico è pronto? ecco quindi cambiamo anche un pochettino l'ottica perché è facile attaccare noi a San Mariletto no siamo in ritardo non abbiamo le strutture adeguate sempre d'accordo ok io ho le sfalle grosse riesco più o meno a sopportare tutti gli attacchi che prendiamo però vorrei anche girare anche la palla al contrario e la domanda per Luca a questo punto è senza l'85% della tassa di soggiorno voi ce la fareste a portare avanti la baracca perché uno dei rischi se continuo a rispondere alla ragazza è che poi questa cosa economicamente non è più sostenibile si tirano tutti fuori rimaniamo col cerino in mano quei sette imprenditori iniziali di cui parlava magari siamo anche noi sette e che facciamo? andiamo avanti? non andiamo avanti? ci proviamo però alla fine che cosa resta? questo l'ultima cosa che volevo anche chiedere sicuramente abbiamo capito che dobbiamo decidere insieme sicuramente con tutte le entità che ci sono che io rappresento gli alberghi ma sono tantissime entità dove vogliamo arrivare? ma io ho un'altra domanda cioè dove stiamo adesso? siamo d'accordo di capire dove siamo adesso? perché io sono sicuro che quello che penso io non lo pensano gli altri quello che mi chiedo e chiedo a Luca in questo caso più che alla platea è una provocazione per la platea però quello che chiedo anche a Luca è stata fatta all'epoca questa domanda tra di voi vi siete chiesti dove siamo adesso? dove vogliamo arrivare? quello che in gergo si chiama gap analysis e quindi che cosa fare per raggiungerlo? perché secondo me noi qui ancora non sappiamo che cosa siamo lo vedo costiamo troppo? costiamo troppo poco? stessa cosa siamo per giovani però siamo per vecchi? ecco questa ragione giusto queste due tre domande e provocazioni grazie Nicola abbiamo due tre ore e mi rispondo scherzo sarò veloce riparto dall'ultima sì sicuramente ce lo siamo chiesti e attenzione ce lo continuiamo a chiedere perché quella domanda là non bisogna mai smettere di farsela c'è una domanda costante perché le cose cambiano anche gli scenari i mercati cambiano l'abbiamo fatta prima del covid poi c'è stata una pandemia chi è che se l'aspettava? poi vi raccontrò nell'ultima parte cinque minuti dell'intervento anche cosa abbiamo fatto per immaginare il futuro quindi quella domanda lì va fatta sempre ci sono vari modi secondo me il lavoro che farete a breve con i workshop credo vada anzi abbastanza certo in quella direzione non tanto nel costruire la scatola della DMO perché quella lì è una parte più tecnica ma individuare le priorità e anche il chi vogliamo chi volete essere no? e vi ricordo come dicevo prima che è meglio essere bravi per non per tutti perché quando si è bravi per tutti poi si diventa bravi per nessuno quindi ci vogliono le specializzazioni non è che ne serve una sola però un portfoglio in cui diciamo ci siano delle specializzazioni è sicuramente importante sul tema dell'imposta allora io ti posso dare questa risposta nei miei dieci anni di attività beh prima noi avevamo un finanziamento che non arrivava da rimposta però comunque era un finanziamento pubblico il tema più che l'85 il 70 il 37 quello che è importante è quello che dicevo prima è la stabilità cioè la certezza che quel finanziamento arrivi nel tempo perché quello che ti siccome lavoriamo su orizzonti temporali medio-lunghi la certezza che quel finanziamento almeno la base possa arrivare è quello che fa la differenza ripeto può essere anche poco però quel poco deve essere garantito il più possibile a netto dei problemi che poi ci possono essere però è più la costanza la certezza spalmata nel tempo che al di là dell'intensità è chiaro che per noi oggi sottrarre quel flusso di denaro vorrebbe dire non poter fare un sacco di cose però un sacco di cose le fanno anche gli imprenditori privati come dicevi tu il tema non si pone in contrapposizione pubblico privato perché il turismo è sistemico e vede la presenza di tutti il pubblico ha un compito di tracciare di creare la politica turistica se volete la DMO ha il compito di creare il palcoscenico e poi il palcoscenico ci stanno gli imprenditori che incontrano la domanda grazie mille Luca per la preziosa risposta forse l'assessore voleva aggiungere qualcosa rispetto alla provocazione di Nicola sì è chiaro che adesso non non riusciamo a ad esprimerci totalmente su tutto quello che magari c'è in ballo e sul lavoro che si sta portando avanti allora io rispondo innanzitutto per una piccola parte a a Sandro Assenti quando lui cioè giustamente ribadisce sempre con forza questo fatto del campanilismo che non siamo culturalmente mentalmente forse ancora pronti per diciamo a questo lavoro di gruppo io sinergico e l'esperienza che abbiamo visto in questo anno qui c'è qualcuno c'è l'assessore del comune di Acquaviva del comune di Grotta Mare allora noi sette comuni differenti di bandiere politiche proprio diverse abbiamo avuto desiderio di lavorare insieme per partecipare a un bando ministeriale e ci siamo messi a lavorare riconoscendo che quella la partecipazione a quel bando era un guadagno per il nostro territorio abbiamo fatto questo gruppo di sette comuni partecipando a questo bando che di fatto abbiamo vinto cioè ha avuto esito positivo magari poi in un successivo momento ve lo illustreremo però qui è una questione ormai di volontà cioè noi più ne parliamo del fatto che non andiamo d'accordo più il problema è non andare d'accordo ma il punto invece è fare un passo e basta anche perché penso che un imprenditore forse la politica ancora ha i campanili ma gli imprenditori non dovrebbero averlo l'imprenditore deve riconoscere deve fiutare che questo è un investimento per il futuro se vogliamo sopravvivere quindi ci si mette al lavoro insieme questo è quello che penso scusatemi però penso che riguardo alla domanda del presidente dell'associazione albergatori la tassa di soggiorno non tassa di soggiorno qui è chiaro che non si può paragonare l'imposta di soggiorno del Trentino Aldo Adige con quella di San Benedetto che San Benedetto entra in vigore è in vigore per tre mesi quindi infatti forse c'era anche il progetto insomma perlomeno di estenderla a 12 mesi e chiaramente io dico che i servizi che il Trentino Aldo Adige offre non sono magari simili ai nostri e soprattutto qui ci dobbiamo bilanciare insieme perché è vero che il pubblico riversa la tassa di soggiorno ma è vero pure che l'APT riceve 110 euro a posto letto dall'imprenditore quindi questo è qualcosa che costruiremo insieme dentro questo sistema da costruire insieme da capire quindi non è un fatto di partite economiche è un fatto di che cosa insieme vogliamo portare avanti poi se la pubblica amministrazione deve tirare fuori un milione di euro lo vedremo insieme come quando in accordo adesso comunque eh no e e comunque ecco io penso che lo dicevo all'inizio la presenza la presenza in questo in questo pomeriggio credo che sia già un fatto di voler sfondare questa mentalità culturale di essere ognuno per conto suo che ormai veramente cioè è anacronistica sinceramente grazie grazie assessore allora eh Nicola grado di soddisfazione delle risposte appunto abbiamo ancora due incontri lascio un attimo la parola ti metti anche tu in discussione giusto lascio un attimo la parola a Guido Capanna-Pisce il professor Guido Capanna-Pisce che magari interagirà con Luca D'Angelo sulle metodologie che utilizzeremo allora Luca giustamente eh almeno dal mio punto di vista ma adesso che lo racconterai magari anche per loro sarà una bella sorpresa se non la conoscono già eh il progetto Future Lab nasce appunto da questa volontà di gestire il territorio in maniera partecipativa quindi ti inviterei naturalmente a raccontarlo poi un mio diretto interesse perché io appunto mi occupo di turismo sostenibile soprattutto nelle aree protette per cui di conseguenza quella che è la carta europea del turismo sostenibile nasce esattamente proprio da da queste tematiche quindi siamo in tema e poi infatti accenneremo anche a questo questo concetto di di sostenibilità che ovviamente è una dei cardini di questa iniziativa quindi e lo sarà appunto anche nei prossimi incontri e vabbè eccoci hai il microfono chiuso Luca perfetto eh sì ma allora velocemente ovviamente perché insomma la serata è un pomeriggio bello denso anche bello così che ci sia uno scambio vuol dire che c'è sicuramente partecipazione l'ultimo cinque minuti volevo raccontarvi eh questo percorso che noi abbiamo iniziato nel 2019 quindi vi dicevo prima nel 2015 noi abbiamo rivisto la nostra strategia arriviamo da una PT che non era quella che vi ho raccontato oggi aveva vari problemi ci siamo abbiamo restretto il campo di azione abbiamo fatto e facciamo meno cose rispetto a quelle che facevamo nel 2015 14 ma pensiamo di farle molto meglio perché abbiamo ci siamo specializzati però nel 2018 19 diciamo è nata all'interno della comunità noi abbiamo percepito diciamo alcune cose che stavano nascendo la necessità di fermarsi un attimo e quindi ritorno a quelle domande che venivano fatte prima sul farsi le domande che è una cosa che vi invito sempre a fare a mai smettere e appunto abbiamo creato questo grande laboratorio che abbiamo chiamato Dolomiti Paganella Future Lab lanciato nel 2019 in una serata pubblica la vedete sullo sfondo siete presente che qui eravamo solo sull'alto piano della Paganella su 5.000 abitanti e avevamo nella sala circa 800 persone che per noi è un record è stato un record assoluto anche perché come ente non avevamo mai convolto la comunità intesa tutta la comunità cioè tutti gli abitanti oltre gli imprenditori turistici con quali abbiamo ovviamente molte più relazioni consorsi eccetera abbiamo invitato questa grande serata abbiamo lanciato questo laboratorio che è stato costruito su queste noi abbiamo chiamato quattro domande chiave quattro grandi interrogativi che insomma ci sono serviti da guida poi oggi l'abbiamo in parte anche superati però sono comunque dei pilastri il primo è legato proprio al tema che avete anche voi accettato cioè noi abbiamo chiamato DNA di destinazione le tre domande qui erano chi è stato questo territorio da dove arriviamo chi siamo oggi cosa siamo diventati ma soprattutto cosa vogliamo diventare quindi questo era il tema del DNA poi c'era il tema delle nuove generazioni come vi ho raccontato è una destinazione community quindi dove diciamo la proprietà delle aziende turistiche è in mano a famiglie locali e oggi si pone un tema di passaggio generazionale perché avevamo capito già nel 2019 dopo il covid si è anche rafforzato non positivamente per la verità la tendenza è non sempre le nuove generazioni hanno o vogliono gestire le imprese turistiche alla stregua dei propri genitori o anche dei nonni perché ci sono ancora a volte anche i nonni quindi come facilitare questo passaggio generazionale per fare in modo che le nuove generazioni possano essere veramente il motore di sviluppo il tema del cambiamento climatico che per noi assume dimensioni ancora più per tutti è un temone enorme diciamo per le distrazioni alpine soprattutto quelle che lavorano sulla parte anche invernale assumono l'elevanza ancora più forte quindi noi qui la domanda che ci siamo fatti è come possiamo essere più possibili resilienti verso il cambiamento climatico non avendo diciamo l'arroganza di dire di poter cambiare noi migliorare la temperatura o modificare il clima ma contribuire in parte con il nostro lavoro riducendo gli impatti ma soprattutto capire come adattarci a un futuro che sarà sempre più come dire influenzato dalla crisi climatica dei cambiamenti climatici e il quarto tema che poi è un po' quello che li racchiude tutti era proprio legato a quello che abbiamo chiamato turismo in equilibrio qui è il concetto della sostenibilità di fatto non l'abbiamo chiamato sostenibilità perché a me è una parola che è perfetta ma che nel tempo ha assunto diciamo anche magari delle declinazioni non propriamente centrate quindi abbiamo chiamato equilibrio tra cosa l'equilibrio tra la la natura quindi lo spazio la nostra comunità stessa come spazio geografico le la comunità che ci vive e gli ospiti che la vivono cioè come mettere in equilibrio queste tre dimensioni la natura dove avviene fondamentalmente lo spazio fisico dove avviene l'incontro tra la comunità locale che vive risiede e lavora e gli ospiti che arrivano e poi vanno via quindi questo è stato un laboratorio molto molto lungo non so perché non va ok ma va avanti e ve lo devo per forza di cose sintetizzare comunque c'è un sito dedicato si chiama Adolomiti Paganella Future Lab potete andarlo a vedere abbiamo raccontato anche tutta la fase metodologica gli strumenti che abbiamo usato i workshop che abbiamo fatto alcuni simili a quelli che farete voi poi c'è stato il covid di mezzo quindi abbiamo dovuto anche cambiare un po' passare non più per forza purtroppo a incontri di persona o farli anche in digitali quindi abbiamo costruito diciamo un mega laboratorio fatto di tantissimi incontri molto faticoso in cui è stata proprio una grandissima operazione di ascolto della comunità guidata da quei quattro grandi interrogativi perché comunque qualsiasi lavoro di workshop o comunque di condivisione con tanti soggetti va in ogni caso guidato noi avevamo deciso che quelle quattro domande potessero essere i nostri proprio le nostre guide i nostri i nostri fari nello sviluppo abbiamo realizzato tantissimi modelli e soprattutto siamo arrivati a scrivere questa che è la che è la carta dei valori che rappresenta oggi il nostro documento più importante perché rappresenta il testamento se vogliamo di chi vogliamo essere da qua ai prossimi 20 barra 30 anni breve ma importantissima specifica i dieci punti che vedete qui sono ovviamente aspirazionali cioè noi stiamo lavorando per andare in quella direzione lì non abbiamo assolutamente raggiunto tutti questi obiettivi su alcuni siamo un pochino più vicini tipo il tema del season free ma siamo più vicini vuol dire essere arrivati ma questo è un documento che noi abbiamo estratto abbiamo scritto noi come team di lavoro era un team di lavoro internazionale abbiamo estratto dei lavori di ricerca fatti con la comunità cioè abbiamo sintetizzato di fatto quello che era un sentiment che c'era sulla comunità il sentiment era anche molto legato al fatto che intravedevamo già dei primi segnali comunque di difficoltà non economica anzi perché questo non è mai stato un problema ma di momenti in cui la comunità andava in stress con il mondo turistico quindi quello che oggi malamente viene detto ver turism perché è un tema è una parola troppo sintetica per racchiudere un significato complesso però c'erano dei segnali in cui c'era qualcosa che non andava e quindi abbiamo voluto lavorare con la comunità per arrivare a questi a questi dieci punti anche qua non ve la leggo perché la trovate comunque online oggi questo è il documento più importante che abbiamo è stato condiviso con tutta la comunità con gli imprenditori molti degli imprenditori ce l'ha esposto anche all'esterno lo fa vedere agli ospiti e questo è un passaggio che andremo a fare anche brevissimo ci siamo anche trasformati in società benefit che è una nuova forma giuridica questo è un passaggio che abbiamo voluto fare noi che era coerente rispetto al lavoro sulla sostenibilità e sul future lab che è una forma giuridica che di fatto si pone è uno staff for profit però diciamo che vuole raggiungere il profitto che poi in realtà noi non facciamo profitti perché non facciamo utili ma il nostro profitto se volete vederlo così è il benessere della comunità fatta di persone e di imprenditori però vorremmo fare cercando di avere un impatto il più possibile positivo sulle persone e sull'ambiente quindi oggi abbiamo riscritto parte del nostro statuto e abbiamo integrato quelle che sono appunto le finalità di beneficio comune vado verso la fine per dirvi che se prima avevo alzato l'asticella dicendomi che il marketing non è la parte più importante adesso la rialzo ancora di più perché i progetti che vi presento adesso sono tutto purché marketing sono progetti di puro management dove noi lavorando con vari soggetti ma soprattutto lavorando con le amministrazioni comunali a fianco all'amministrazione comunale stiamo cercando di trovare nuovi modelli di gestione in questo caso dei flussi turistici qui siamo a Molveno Molveno è un hotspot dal nostro punto di vista in estate e soffre in alcuni momenti di un carico molto importante di turisti soprattutto sulla spiaggia e qua nonostante siamo al lago immagino che alcune similitudini venendo anch'io dal mare ci siano e ci possono essere allora cosa che abbiamo fatto attraverso alcuni fondi provinciali abbiamo lavorato e attraverso una grandissima disponibilità da parte dell'amministrazione pubblica con quale avevamo lavorato prima avevamo seminato attraverso il Future Lab ricordatevi questo tema del tempo della necessità di fare tutti i passaggi come vanno fatti questo che vi sto per far vedere non avremmo mai fatto se non avessimo fatto i passaggi precedenti con il Future Lab la costruzione della visione la costruzione di un vocabolario la costruzione dei valori senza quella roba lì questa gestione dei flussi non saremmo mai riusciti a fare qual è il problema di Molveno? il problema è che in alcuni momenti si blocca tutta la zona lago perché i parcheggi sono in basso nella zona paese e quindi abbiamo fatto di fatto due cose abbiamo fatto uno studio di capacità di carico della zona della spiaggia abbiamo fatto un'analisi molto approfondita sull'esperienza dell'ospite in tempo di stand più di 500 persone abbiamo messo gli elevatori dei passaggi abbiamo messo gli elevatori della qualità dell'area abbiamo messo gli elevatori dei passaggi del traffico veicolare perché prima cosa abbiamo dovuto capire qual era il problema è un problema di troppe persone sulla spiaggia o è un problema di troppe macchine che accedono all'area spoiler è un problema di troppe macchine noi non avevamo perché ve lo dico perché non gli ospiti non ci hanno restituito una diminuzione della qualità dell'esperienza in spiaggia ma ci hanno tutti parlato dei problemi dei parcheggi quindi con i passaggi veicolari vedendo la metodologia è stata molto complessa ve lo sto semplificando però abbiamo usato veramente tantissimi dati alcuni anche molto sperimentali tra cui appunto quelli delle celle le telefoniche per capire in un determinato momento quante persone erano presenti sull'area abbiamo tendenzialmente capito che era un problema di traffico e su questo ci abbiamo messo un anno e mezzo ok a capire qual era il problema poi abbiamo lavorato con l'amministrazione comunale per a partire da quest'anno per cercare di capire come risolverlo e quindi abbiamo introdotto gradualmente la possibilità della prenotazione del parcheggio che nel 2024 era una possibilità e che nel 2025 diventerà un'obbligatorietà quindi per chi vorrà venire al lago nella zona lago nel parcheggio basso più vicino al lago sarà necessario prenotare obbligatoriamente il parcheggio prima altrimenti non sarà possibile accedere a quella zona questa scelta che vi può sembrare semplice è una scelta a cui siamo arrivati facendo tutti gli step che velocemente vi ho raccontato ma in maniera temporale quasi due anni di lavoro quest'anno abbiamo messo a terra anche questa campagna di comunicazione che è stata una delle prime campagne di comunicazione questo sì che è marketing ma è pensato per gli ospiti che sono in destinazione è pensato per gestire le persone il marketing è un'ottima leva non solo per attrarre ma anche per provare a gestire i comportamenti quindi per comunicare la necessità e come dire l'opportunità di prenotare il parcheggio prima perché prenotando prima come abbiamo imparato a fare tutti durante il covid doveva pronotare praticamente tutto l'esperienza di cui si può godere anche una giornata al lago è sicuramente potenziata queste che vedete non sono fotomontaggi sono installazioni che ci sono negli accessi del lago e l'abbiamo installata in tantissimi posti 2024 prima sperimentazione con la campagna 2025 arriverà l'obbligatorietà del parcheggio ci saranno problemi lo sappiamo l'abbiamo messo in conto ci saranno problemi soprattutto con gli escursionisti ci saranno le critiche problemi ci sono sempre a prescindere a prescindere ma è importante saperlo anche dal punto di vista politico su questo abbiamo lavorato tanto noi per aiutare e supportare noi non facciamo politica noi lavoriamo dal punto di vista tecnico quindi dobbiamo dare degli strumenti tecnici ai politici per poi poter decidere ma c'è la convinzione da parte dell'amministrazione comunale di andare avanti e di superare sicuramente anche i momenti difficili vado verso la fine fammi fare fammi fare spoiler scusa perché una delle attività che in questi mesi appunto il gruppo che vedete in questo tavo ma non solo ci sono ovviamente anche altre persone che hanno lavorato a questo stiamo lavorando appunto anche insieme agli altri comuni esattamente a quello che ci ha fatto vedere Luca poco fa cioè utilizzare la tecnologia al servizio del turismo ma in realtà tutta la tecnologia che verrà installata dentro le città quindi non solo a San Benedetto ma alle città che hanno partecipato appunto al progetto del ministero anzi ai progetti del ministero che sono due tra le altre cose prevedono anche l'utilizzo appunto di questi strumenti per avere delle informazioni dei dati perché una delle problematiche di un territorio quando si deve gestire ovviamente è avere l'informazione prima Luca accennava al metodo degli svizzeri di San Gallo ovviamente i flussi vanno gestiti ma senza i dati non possiamo assolutamente nemmeno iniziare a parlarne scusami se ti ho interrotto concludi no no è giusto anche perché senza i dati noi non avremmo individuato il problema perché eravamo partiti con un'idea che il problema fosse troppe persone in spiaggia quindi già poi i dati ci hanno detto un'altra cosa in realtà sono tutte collegate le questioni però un conto è gestire le persone di spiaggia un conto è gestire i parcheggi sono due cose simili ma non la stessa cosa e quindi la risoluzione della problematica è diversa e quindi questo ci ha permesso proprio attraverso i dati e la tecnologia di provare individuare il problema e poi ovviamente costruire dei possibili applicativi di soluzione questo è la pronotazione 1 altro progetto che non c'entra niente col marketing se non che si cambia il tema quando si parla di territori che sono attrattivi i territori ormai sappiamo e gli imprenditori in aula lo sapranno sicuramente meglio di me di quanto è difficile anche lavorare con le risorse umane sulle risorse umane per trovarle per affezionarle per fidelizzarle per lavoro sulla formazione per arzare la qualità questo è un fenomeno che dopo il covid era già complesso prima è diventato ancora più difficile soprattutto nel mondo del turismo quindi qui è arrivata una richiesta da parte di una dell'agenzia del lavoro del Trentino e di un'altra società di sistema del Trentino di usare il nostro territorio come pilota per un progetto di attrattività del territorio perché sono arrivati a noi sempre per lo stesso discorso per cui abbiamo fatto il lavoro con il lago di Molveno perché avevamo costruito un percorso quando si costruiscono i percorsi e si creano gli spazi i progetti arrivano perché il territorio è pronto a recepirli anche questo senza Future Lab questo progetto specifico qui dove abbiamo costruito un patto di attivazione con alcuni imprenditori che garantiscono degli standard qualitativi elevati in gestione del personale dove diamo una card noi di servizi al personale di fatto che gli permette di avere gli stessi benefici che hanno gli ospiti una card fisica dove c'è l'agenzia del lavoro che fa un lavoro di matching tra domanda e offerta più si chiama plus quindi più quasi da soggetto privato mi verrebbero dire tutte queste cose sono arrivate e sono un anno di lavoro anche questa campagna che oggi è andata online è finita vi faccio vedere mentre parlo la landing page che abbiamo utilizzato è finita per quanto riguarda l'inverno ne verrà riproposta un'altra sull'estate ovviamente siccome l'agenzia del lavoro non lavora per la paganella ma lavora per tutto il trentino questo è un pilota fatto in paganella e poi verrà esteso in altri territori trentini che vorranno aderire quindi qui abbiamo raccolto curriculum l'abbiamo fatto noi abbiamo messo a disposizione una rete di soggetti una rete di persone finisco le ultime due slide cose che vi ho già detto però ci tenevo a fissarle questo è un po' il nostro percorso dal 2014 2015 ad oggi cioè quando noi abbiamo iniziato io quando sono arrivato insieme al nuovo CDA che si è insediato di fatto insieme a me alla nuova direzione abbiamo trovato troviamo una PT senza con pochissima specializzazione dove facevano si facevano un sacco di cose per tutti male fare tutto per tutti mediamente male dove c'è una distribuzione di contributi tendenzialmente a pioggia io mi ricordo sempre questa parola la cito perché non è mia ma è di un imprenditore che è stato intervistato nel 2014 e ci chiedeva come vedi la PT secondo te cos'è la PT oggi ecco nel 2014 questo imprenditore rispose che la PT era un bancomat ripeto non è una parola mia ma ve la dico proprio perché rappresentava un po' uno stato comune perché nel tempo era stata lasciata andare quindi in realtà questo perché ve lo sto dicendo perché non bastano poi le politiche il framework politico per fare un soggetto che funzioni ma ci vuole un accordo una visione ci vuole un patto che viene fatto tra pubblico e privato facevamo un sacco di promozioni anche qua fatta male e soprattutto era un soggetto pochissimo legittimato sul territorio dieci anni di trasformazione ci hanno portato a ridurre drasticamente le cose che facciamo dichiarando soprattutto quelle che non facciamo anche quindi i contributi a pioggia sugli eventi non esistono più i contributi se ci sono vengono definiti con dei contratti di servizio che noi affidiamo ai consorsi ma devono rispondere anche alle caratteristiche che vi ho raccontato prima di comunicazione di promozione di marca ne facciamo pochissima ma quasi anzi direi zero se facciamo comunicazione la facciamo verticale sui prodotti che abbiamo deciso essere per noi strategici importanti e poi diciamo nel tempo col Future Lab che è stato passaggio due della strategia abbiamo preso questo ruolo di leadership di uno sviluppo equilibrato diciamo e sostenibile della destinazione è un lavoro che non finirà mai è un lavoro che va avanti nel tempo e ci sono alcune questioni alcuni fattori chiave tra cui il tempo queste sono tutte cose che abbiamo già discusso in parte tra le domande che mi avete fatto le risposte gli interventi che avete fatto voi il tempo è un fattore chiave tempo stabilità visione ci vuole tempo per costruire una visione territoriale perché la comprensità è talmente alta che ci vuole tempo a costruirla ma ci vuole costanza nel mantenerla si inizia anche da piccole cose per poi alzare l'asticella e aumentare la complessità la coerenza e la visione sistemica sono le facce due facce della stessa medaglia ne abbiamo già parlato bisogna rimanere anche convinti delle scelte che si fanno bisogna saper dire di no e più le volte noi i primi due tre anni abbiamo passato più a dire di no che a dire di sì adesso non ci vengono neanche più a chiedere i contributi perché lo sanno che tanto non li diamo perché stiamo facendo altro però quando si cambia lì bisogna tenere duro un po' come dovrà tenere duro il sindaco del comune di Molveno quando si riceverà valangate di comunicazioni e di mail e di lettere da parte di persone indignate perché non possono non avevano prenotato e non hanno trovato il posto e se ne devono andare a casa succederà fa parte del gioco il coinvolgimento delle nuove generazioni è fondamentale e un'altra cosa importante di cui abbiamo parlato in maniera tangente diciamo abbiamo toccata che l'innovazione è una destinazione non è legata alla tecnologia la tecnologia è un po' qualcosa che potenzia l'innovazione ma l'innovazione deve nascere dalle relazioni dalle competenze che esistono e dalla visione quindi questo era quello che insomma ci tenevo a dirvi perché poi rassumendo definitivamente siamo sempre più convinti che le destinazioni comunque nel futuro ma già oggi ma nel prossimo futuro non competeranno neanche più sulla dimensione prodotto barra prezzo ma competeranno se sapranno mettere sul campo sapranno offrire esperienze che sono autentiche che siano equilibrate che siano sostenibili e soprattutto che siano radicate nella comunità dove queste nascono vi ringrazio non lo so se lo senti l'applauso lo vedo lo vedo non lo sento ma lo vedo avete qualche domanda le ultime domande per Luca altrimenti andiamo a chiudere il discorso e parlando di dati vi facciamo vedere anche alcune nostre alcuni nostri dati poi Luca la domanda sul modo in cui raccogli le opinioni dei vostri turisti magari la domanda te la faccio io oppure se vuoi già rispondere qual è il modo in cui riuscite quali modi o facciamo su Molvero abbiamo fatto delle indagini ad hoc ovviamente perché dobbiamo fare un carotaggio molto specifico in più monitoriamo comunque ogni anno attraverso un data appeal la reputation della destinazione quindi il livello di soddisfazione per esempio su tutto quello che ovviamente ci vuole una traccia digitale cioè ci vuole una recensione che avviene sul web quindi abbiamo vari strumenti sia più ampi che teniamo tutto l'anno sia a volte quando servono andiamo a farli appositamente quindi fate dirette indagini dirette su quello sì ok è sostanzialmente quello che abbiamo fatto quest'estate come esperimento mettiamola così allora per concludere volevo farvi un discorso ma magari ne parliamo la prossima volta perché chiaramente siamo arrivati diciamo un po' un po' lunghi però uno degli elementi che guideranno chiaramente il nostro percorso come dicevamo prima è quello della sostenibilità e parlando di turismo sostenibile chiaramente non si fa la solo di turismo sostenibile dentro per esempio un'area protetta a prescindere che questo comune anche il territorio ha delle aree protette quindi sì che sicuramente andrebbero valorizzate questa è una ricerca diciamo del nemico di tutti gli operatori turistici del mondo uno dei nemici nemico amico mettiamola così che ci dice che le tendenze per quanto riguarda del turismo sostenibile non so Luca se riesci a vedere le slide e poi magari intervieni quando vuoi perché visto che se ne vedo ne vedo ok tanto la conoscerai sicuramente questa indagine perché figuratissimo la conosci in realtà la stessa piattaforma ha iniziato sostanzialmente a creare una sorta appunto di filtro in base anche ovviamente alle scelte dell'algoritmo per la clientela che in qualche modo si approccia ad un certo tipo di esperienza ok quindi l'elemento della sostenibilità che sia concreto reale certificato non certificato ci sono appunto al mondo in questo momento decine di certificazioni un'altra delle cose che facciamo all'università appunto soprattutto in questo momento stiamo lavorando proprio su un progetto europeo che riguarda una certificazione per le strutture ricettive e quindi magari nel corso degli incontri parleremo anche di questo che in realtà è una certificazione ISO mentre in circolazione ci sono decine di appunto certificazioni che sostanzialmente hanno molto marketing e poco management prima con il collega appunto facevamo questa osservazione il Trentino per esempio invece sta andando verso certificazioni concrete diciamo hard che appunto come possono essere le ISO piuttosto che le GSTC ma sono termini che magari approfondiremo appunto nelle prossime volte a proposito di piccole esperienze sul territorio questa è una piccola esperienza sul territorio che è stato fatto appunto nei comuni del flag Marche Sud quindi da San Benedetto a Porto San Giorgio capofila era il comune di Porto San Giorgio qua abbiamo parecchie persone che hanno partecipato a questo progetto che voleva sostanzialmente iniziare a fare quello che ci ha raccontato Luca cioè partire da un elemento diverso cioè utilizzare il mare in una maniera diversa e appunto avendo anche un'eccellenza sul territorio ma più di uno perché in realtà tutti i comuni hanno un'esperienza legata alla pesca legata alla tradizione e così via questa è stata appunto un'occasione che naturalmente mettiamo nel calderone cioè non dobbiamo ricominciare da zero ok questo progetto è stato messo in stand by perché appunto poi la politica a volte diciamo blocca determinate attività però tutti gli operatori che hanno partecipato sostanzialmente avevano a che fare con la consapevolezza che poteva essere una un'occasione il sito funziona ancora spero giusto ok e quindi potete andare a vedere appunto di che cosa si trattava in realtà il sito è stato completato per quanto riguardava il progetto ma ovviamente poi gli operatori privati in questo caso devono necessariamente portarla avanti vi avevo promesso dei dati e quindi che cosa abbiamo fatto durante l'estate abbiamo chiesto a turisti che appunto sono stati ospitati nelle strutture recettive di questa città in questo caso mi perdoneranno le altre città ma l'abbiamo fatta su San Benedetto ma prossimamente ovviamente questo questionario sicuramente potrà essere esteso tradizionale appunto visto che i fondi per il momento per dedicare tempo e danari appunto per cruscotti digitali che in qualche modo ci danno la percezione di un certo tipo di reputazione Luca poi vi conferma che non costano poco questi strumenti di monitoraggio per ovvie ragioni però in questo caso appunto è stato un lavoro diciamo di tendenza dal punto di vista statistico noi gli diamo importanza semplicemente perché i dati raccolti sono pochi quindi poi ripeto vi spiegheremo per bene com'è andata quello che vi voglio far capire è che in realtà le cose a San Benedetto non vanno male perché la reazione che gli utenti quest'estate a 360 gradi per quanto riguarda la città adesso non mi soffermo sui dati le percentuali non servono a nessuno però potete tranquillamente non so se riuscite a leggere ma poi eventualmente appunto approfondiremo abbiamo a che fare con tempi di permanenza piuttosto elevati almeno per quanto hanno dichiarato chi è stato intervistato ovviamente se avessimo le informazioni da parte delle strutture ricettive le cose potrebbero essere appunto confrontate e quindi potremmo naturalmente andare a approfondire ed è una delle attività che chiederemo naturalmente alle strutture di condividerci poi ovviamente qui c'è il problema delle statistiche ufficiali che arrivano in ritardo non vi devo spiegare nulla perché in questo mondo appunto ci lavorate comunque in realtà come vedete abbiamo a che fare con la voglia di diciamo in qualche modo di essere presenti in questa città ma soprattutto di tornarci tra l'altro abbiamo fatto un piccolo tranello statistico nel senso che alcune domande sono state ripetute più volte all'interno del questionario stesso proprio per accertarci diciamo di questa tendenza di questa peculiarità e quindi vedete che in realtà ci vogliono tornare in questo territorio cioè con una diciamo una probabilità molto elevata anche per quanto riguarda per esempio gli interessi che in qualche modo possono avere le stesse persone che hanno visitato questi territori durante l'estate per poter tornare in altre occasioni quindi tutto il concetto della destagionalizzazione come vedete almeno a livello di tendenza per quanto concerne gli intervistati c'è e tra l'altro ci hanno anche detto più o meno che cosa vorrebbero fare per esempio l'area protetta che magari non so la popolarità all'interno della città o di quanto sia la sentina invece per i turisti soprattutto stranieri hanno una grande valenza quindi di conseguenza è un'opportunità Luca adesso magari ci dirà se può essere un'occasione per fare un viaggio in questo territorio non lo so però sicuramente ecco in periodi dove per esempio c'è la migrazione degli uccelli visto che stiamo parlando di una zona umida Luca e la sentina che probabilmente ci sei passato mille volte sull'autostrada non so se l'hai visitata quindi ti invitiamo la prossima volta a visitare la sentina quindi di conseguenza vedete abbiamo a che fare con tutta una serie di caratteristiche diciamo interessanti altro discorso quello che ci diceva Luca stesso cioè qui adesso non l'ho riportato direttamente ma il consiglio come vedete è elevato anche da questo punto di vista cioè è comunque una destinazione che è piaciuta stiamo parlando di persone che sono state intervistate qui ok non online da qualche parte in giro per l'Europa e anche per quanto concerne il consiglio di come si è arrivati in questa destinazione quindi al di là diciamo delle premutazioni come siete arrivati a scegliere la vostra destinazione san benedetto per la vostra estate è stata prevalentemente i consigli degli amici oltre appunto al fatto che si ha a che fare con una questa è una tendenza globale appunto Luca stesso prima ci riferiva di questi elementi di questo ed altro naturalmente parleremo nelle prossime puntate quindi giusto per utilizzare un termine televisivo Luca non so vuoi aggiungere qualcosa vuoi commentare lo so che ovviamente sono dati di san benedetto ma in generale magari se ci vedi qualcosa a livello di tendenza proprio due parole così andiamo a chiudere ma no allora mi sembra io non l'avevo visti quindi quando parlavo prima di passaparola l'ulteriore conferma che lavorando sulla qualità dell'esperienza sulla qualità del prodotto in loco passaparola rimane ancora lo strumento per comunicare al meglio una destinazione quindi l'ulteriore ulteriore conferma se mai ce ne fosse bisogno mi sembra comunque che lo spettro anche di esperienze e anche il fatto che poi le persone considerano di tornare quindi questo è positivo e molto positivo e anche lo spettro di esperienze che si potrebbero utilizzare anche diciamo di nuovo a geometrie variabili tra diversi periodi dell'anno mi sembra interessante adesso vederlo lì sulla carta esposto così dagli ospiti quindi insomma materiale per lavorare ce n'è ma non avevo dubbi grazie Luca l'ultimo intervento è di Sergio Trevisani che ci illustrerà diciamo vi racconto praticamente quello che faremo nei prossimi giorni intanto però parto da un dato che ritengo significativo perché siamo venuti a fare un workshop e l'abbiamo fatto perché i vostri interventi ci sono stati le domande hanno avuto un riscontro anche penso anche tra di voi oltre che a noi che l'abbiamo ricevuto e abbiamo dovuto dare delle risposte oggi eravate in 84 che non mi sembra proprio un dato da buttare via nel senso che in condizioni di lavoro di operatività ma al di là di questo anche di coinvolgimento su un tema che sì abbiamo capito abbiamo avuto anche dei feedback quando facevamo comunicazione per informarvi la gente era molto sensibile e voi ce l'avete dimostrato quindi questo è un dato importante che ribadisco perché mi serve per introdurre un altro aspetto eravate in 84 e magari quando tornerete nella vostra diciamo vita di tutti i giorni domani nei prossimi giorni ne parlerete anche con altre persone con altri colleghi con altri collaboratori con le persone che comunque si occupano di questo tema che come avete capito per come l'abbiamo trattato e ringrazio Luca D'Angelo averlo fatto in questa maniera proprio olistica è un intervento che riguarda tutti cioè riguarda l'operatore turistico oggi qui tra noi ci sono pure che ne so architetti soggetti della comunicazione che sono tutti elementi che compongono un percorso di management come è stato detto tant'è che vorrei provocare D'Angelo e dirgli ma perché non vi chiamate azienda di marketing turistico piuttosto che di promozione turistica a questo punto ci siete allora azienda se mi provo ti devo rispondere azienda di management non di marketing di marketing al di là di questo però volevo che dici tant'è un passaggio veloce dalla P alla M si fa subito non lo possiamo cambiare il nome perché azienda per il turismo in realtà è un nome che funziona perché è abbastanza ampio dalla provincia quindi in un segno di moltiplicazione benissimo che poi c'è anche un doppio senso quello che volevo dire alla fine di questo incontro è quello che faremo nei prossimi giorni allora noi non ci vediamo fra venerdì prossimo perché abbiamo pensato che essendo una data principale all'interno del TTG che si fa a Rimini non volevamo sovrapporci abbiamo questa presunzione non volevamo sovrapporci quindi ci siamo spostati in una settimana noi saremo qui come sapete come vi ribadisco adesso il 18 di ottobre perché quella è una giornata chiave cioè quello è proprio il vero laboratorio noi avremo tre momenti sostanzialmente il primo sarà quello nel quale a tutti quei ai presenti non tanto ma quelli che vorranno venire e che già ci hanno comunicato che oggi avevano un impedimento ma la prossima volta verranno rispiegheremo in pillole cos'è una DMO e cosa vogliamo fare ma vuole in pillole dopodiché avremo un intervento dei funzionari e colleghi dell'istituto di ISNART che è l'istituto del turismo delle camere di commercio quindi a sede a Roma che ci daranno alcune informazioni fondamentali da un punto di vista della tendenza a livello nazionale di nuovi numeri dei risultati che loro hanno raccolto facendo analisi e facendo ricerche in Italia nel turismo negli ultimi anni e chiaramente questo è un tesoretto che ci porteremo dietro perché poi noi faremo durante quella giornata ci divideremo con gruppi intersettoriali quindi non sarà tutti operatori turistici struttura alberghiero oppure ma saremo intersettoriali sotto questo aspetto quindi ci saranno anche associazioni di categoria ci saranno associazioni ambientaliste abbiamo parlato con Luca del problema della sostenibilità del cambiamento climatico noi ragioniamo in termini vorremmo ragionare in termini di impronta di impronta ecologica e quindi questo è un elemento e in questi gruppi faremo le tre cose che dice il workshop parleremo in un gruppo di accessibilità in un gruppo di sostenibilità e in un gruppo di innovazione innovazione tecnologica ma anche innovazione di idee cioè proprio future lab ma in senso esteso questo sarà quello che faremo in quell'occasione per ogni gruppo la nostra organizzazione mette a disposizione due facilitatori che vi aiuteranno nella raccolta delle informazioni poi durante ogni singolo gruppo verrà eletto uno o più portavoce che raccoglieranno tutte le informazioni che emergeranno da questi tavoli li prepareranno li predisporeranno in una specie di discorso concreto e il 25 quindi l'ultimo giorno ci vediamo perché in quel giorno facciamo due cose importanti facciamo ogni capogruppo di ogni gruppo racconterà agli altri quali sono stati i loro effetti e quindi ci sarà un ulteriore interscambio un ulteriore dialogo che noi cercheremo di portare avanti in quella giornata e da quello ci avremo tutti i presupposti per creare quello che diceva Mauro all'inizio ovvero sia per creare una sorta di documento strategico nostro che è la leva di quello che dicevi dove volevi arrivare tu Nicola cioè attraverso tutto questo percorso noi ci diamo una base di lavoro che chiaramente proseguiremo che è quella per la quale cominceremo a mettere come dire i primi momenti di organizzazione di definizione al di là della parte organizzativa amministrativa di tipo come dire statutario quello che sia di cosa faremo e come faremo una destination management organization questo sarà per noi non solo un documento guida ma sarà poi anche e vi chiameremo a sottoscriverlo chiameremo una sottoscrizione volontaria perché quello sarà per noi il patto del local green deal di San Metto del Trondo del settore del turismo questo è il percorso che vi devo descrivere ve lo descrivo e siccome chiudiamo qui ringrazio e saluto Luca D'Angelo per averci raccontato grazie a voi l'applauso l'applauso la dice lunga ovviamente il professor Temperini che ci ha ospitato e che ha fatto la sua interessantissima relazione ovviamente Guido Capanna Pichè che ci accompagna ormai da qualche anno e che praticamente è la figura che sta organizzando appunto questo piano strategico del turismo sostenibile per conto del comune l'assessore Cinzia Campanelli che ci sopporta no la dico l'ultimo dico Mauro Alfonsi perché Mauro Alfonsi lo diciamo per ultimo quindi grazie a tutti ovviamente ricordo raccontatelo 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 e tornate che faremo con voi un grande lavoro speriamo grazie e buonasera grazie a tutti Grazie.